alla riva, a suo tempo responsabile della direzione risorse umane e comunicazione interna del Monte dei Paschi di Siena, che io ringrazio di aver accettato il nostro invito per il contributo e l'informazione che potrà fornire la Commissione. L'audizione si svolge in forma libera, di essa sarà redatto un resoconto stenografico che verrà conservato agli atti della Commissione. Avverto la nostra ospite che se lo riterrà opportuno, qualora ritenga di doverci fornire informazioni particolarmente delicate, potrà chiedere che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta nell'ambito di un reciproco obbligo di riservatezza. Io come dottoressa intanto la ringrazio ancora per aver accettato il nostro invito. Lei aveva una responsabilità importante all'interno della Banca Montepaschi all'epoca del decesso di Davide Rossi. Io la vorrei pregare innanzitutto di fornire alla Commissione tutte le informazioni che riguardano in particolare la sua carriera, le mansioni che lei svolgeva e in particolare per quanto concerne sia il prima che il dopo, la figura di Davide Rossi prima del decesso e poi anche se ha seguito eventi che possono essere di interesse di questa Commissione anche nella fase successiva al decesso. Io lascio la parola, poi magari mi permetterò di interromperla per utilizzare il microfono, schiacciare quel pulsante e poi pagare e parlare vicino perché questo aiuta sia la percezione... Perché si tiene con la mascherina? Sì, parliamo con la mascherina, questa è la regola. Ok. Allora, io arrivo direi al Monte Paschi nel 2012, quindi a giugno del 2012, quando l'amministratore delegato era Fabrizio Viola, il presidente era Alessandro Profumo. arrivo per occuparmi della direzione delle risorse umane del gruppo Monte Paschi e quindi tra le mie aree di competenza c'era tutta la parte di gestione normale del personale, la parte sindacale, la parte amministrativa, la parte di sviluppo, formazione, la parte di comunicazione interna, cioè quella parte che è solo che si rivolge ai dipendenti. Io rimango al Monte Paschi fino al primo settembre del 2019, quindi copro anche poi le successive gestioni, quindi l'arrivo poi di Morelli, di Tononi, Variatti, insomma tutta la successione dopo. Attualmente sono il job title Ed People and Culture Italy, comunque il capo del personale di Italia di Unicredito, dal primo di ottobre. Dopo Monte Paschi sono stata per due anni in Vodafone. Ah, sì, sono lasciato le banche. Ho lasciato le banche. Quando io sono, credo che mi interessa sapere la parte su Davide Rossi, quindi io quando arrivo al Monte Paschi, Davide Rossi è responsabile della comunicazione esterna, del rapporto con i giornalisti, degli stakeholder, delle sponsorizzazioni, cioè tutto quello che poi voi sapete che c'è sulla sua funzione. Le nostre interazioni dal punto di vista professionale sono state frequenti, sia perché io, seguendo la parte sindacale, in qualche maniera generavo comunicazioni da fare verso l'esterno, sia per una comunque collante tra comunicazione interna e comunicazione esterna. Peraltro, come può succedere vivendo a Siena, io sono l'unico manager del gruppo Monte Paschi che si trasferisce a vivere a Siena con mia figlia e quindi ho un'interazione molto più forte anche con le persone che sono lì, con la città e anche con Davide Rossi ho sicuramente sviluppo più un rapporto, adesso non è significativo ai fini dell'inchiesta, ma il mio cane siamo andati a prenderlo con la moglie di Davide Rossi in un canile, quindi evidentemente esiste una relazione, sempre come può essere nell'ambito di un lavoro, quindi la definirei di un'amicizia. e quindi in qualche maniera questo mi ha portato a… Quindi vi frequentavate anche al di fuori del mondo del lavoro? Sì, sì, non tutti i giorni, però ci sono state le frequentazioni, conoscevo bene la moglie, la figlia della moglie, bene, insomma, nell'ambito… abitavamo a 500 metri di distanza, Siena, non è New York… Andavo a correre con lui? No, 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 però la moglie si occupava di volontariato per i cani, dovevo prendere un cane, per dire, insomma, senza… quindi da questo punto di vista. Quindi lo conosco dal… ho visto un pochino le sue fasi, nel senso che sicuramente Davide era una persona significativa dal punto di vista di ruolo non solo per il monte, ma anche per la città, nel senso che la sua… i suoi rapporti istituzionali, la gestione di tutto il mondo delle contrade, la sponsorizzazione, i rapporti che teneva anche con l'Abi, insomma, quindi aveva un ruolo interno sicuramente importante, ma come chi ricopre questa funzione ha anche un ruolo istituzionale esterno e quando l'esterno non è Milano, ma è Siena, è un esterno, come dire, che ti connota, non so come dire, da questo punto di vista. Quindi io personalmente ci ho lavorato bene, è stata una delle persone che all'interno delle scelte che l'amministratore delegato e il Presidente hanno fatto è stata, come dire, confermata, quindi non tutta la squadra che c'era prima, come spesso succede, è stata confermata, molti anche per una questione anche di età, penso a Fabrizio Rossi che è quello che io ho sostituito, poi lui aveva comunque, era vicino a… quindi Davide sicuramente era una persona giovane, ma era comunque una persona stimata che ha comunque ha continuato a essere valorizzata all'interno della nuova gestione, per alcuni aspetti forse interni anche di più, nel senso che noi avevamo questo comitato direttivo dove la comunicazione non partecipava in passato e lui non immediatamente, perché voller un attimo, capito, osservarlo, vederlo, fu messo dentro il comitato direttivo che non è così scontato nelle organizzazioni, perché il comitato direttivo è un comitato dove si affrontano tanti temi, chi gestisce la comunicazione magari non viene messo dentro. Però proprio per questa sua conoscenza di tutto ciò che c'era intorno al mondo delle banche, alla città e anche per questo suo ruolo di rapporto con gli stakeholder, il fatto che lui fosse dentro gli facilitava evidentemente questo ruolo. Quindi dal mio punto di vista quando noi siamo arrivati, lui lavorava, stava bene, faceva tutte le sue cose, aveva mille interessi eccetera eccetera. Accusato sicuramente il primo momento così è stata quando la morte del padre, che lui ha legato molto al fatto che i blog lo attaccassero, e io mi ricordo che gli dissi Davide i blog attaccano anche me, cioè quando tu scegli di essere un personaggio pubblico, ma chi fa politica, chi ricopre ruoli, sa benissimo che il privato e il pubblico si mischiano evidentemente, quando tu hai un ruolo in cui maneggi soldi tanti, in quegli anni Montepaschit aveva dei budget, quindi quando tu hai il potere, naturalmente all'interno di processi, di autorizzazioni, quando tu comunque, quindi io gli ho detto, secondo me la stai un po' personalizzando, nel senso che, cioè capisco per un genitore, per un genitore, io sono arrivata a Siena e voglio dire, i primi blog dicevano, io venivo da Sky, rimandate a casa l'aria dalla riva e ridateci l'aria d'amico, cioè voglio dire, fa parte di, stiamo parlando di una città che voi conoscete forse meglio di me, ma io l'ho vissuta, che ha avuto un background, ha avuto come dire, un'intestitura negli anni molto forte, quindi è chiaro che le persone che, cioè sono incaricata anche dell'organizzazione interna, quindi, però voglio dire, se io paragono il mio ruolo in Unicredito a Milano, cioè io Unicredito a Milano, cioè sono nessuno, il capo del personale, il capo della comunicazione a Siena, è come dire la Fiat vent'anni fa a Torino, cioè sono ruoli che tu prendi e sai che hanno una componente istituzionale, perché comunque tu agisci sul territorio e quindi c'è, però ecco lui l'ha vissuta male, ecco forse se dovessi dire lui aveva questa un po' fragilità o comunque questa, forse per la passione, per il fatto di essere di Siena, per aver lavorato tanti anni lì, una personalizzazione delle cose, io forse ho fatto tanti anni nelle aziende, ho cambiato tante aziende, ho lavorato anche in multinazionali e quindi non ho un atteggiamento di personalizzazione rispetto a quello che in qualche maniera, come dire che il volantino, quanti volantini avrò preso dal sindacato, cioè non li ho mai personalizzati, so che sono legati al mio lavoro e quindi a Siena hanno pubblicato da tutte le parti il mio stipendio attaccato, tra l'altro inventato, cioè stiamo parlando di un mondo particolare, quindi devi avere una capacità o comunque un indole di sapere che questa cosa avviene perché hai questo ruolo. Dopodiché la fase brutta, quindi la sua fase depressiva direi, più di stress, inizia dopo una perquisizione che fanno a casa sua, lì lui entra in un loop dove io a distanza di anni ci penso, dico boh forse dovevamo fare di più, dovevamo chiamare la famiglia, dovevamo mettergli vicino, non come abbiamo fatto un counseling, però voi sapete bene che le aziende possono muoversi all'interno di strumenti che sono quelli del counseling, di queste cose qui, non è che un'azienda può dire e vado con cose più profonde. Comunque lui dopo questa ispezione entra in un buco nero, in un loop dove dice mi hanno portato via il computer, mi hanno portato via tutto, adesso verranno ad arrestarmi, perderò il lavoro. Queste erano confidenze che faceva direttamente a lei? Sì, 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 lui veniva, le dico avevamo un rapporto, veniva nel mio ufficio, io ho fatto questo mutuo importante e io gli dicevo, vabbè ma Davide, non è che è venuta la finanza, cioè nel senso, cosa puoi aver fatto, ma stai tranquillo, fai la comunicazione, facevi la comunicazione, peraltro più i giorni passavano, il tempo passava e dicevo Davide guarda che se avessero trovato delle cose importanti... Queste conversazioni erano quotidiane, penso che quotidiane? No, quotidiane no, però spesse, perché lui era veramente entrato in un loop, cioè lui mi diceva questo weekend, lui aveva una casa all'amiata, vado all'amiata, poi lunedì mi diceva, no non ci sono andata perché magari mi venivano ad arrestare e quindi io non c'ero, usciva per andare a correre e poi diceva non ci vado perché forse vengono ad arrestarmi, quindi era entrato in questo loop molto forte e poi questa paura di perdere il lavoro dove io gli dicevo, ma Davide, ma metti pure, io la parte diciamo legata al fuori, all'ispezione che hai avuto, non ti posso dire niente perché non la conosco, ma questi due mondi vanno separati, non è che perché uno ha un'ispezione, cioè se no mezzo paese dovrebbe perdere il lavoro, non è che uno perché avessi anche l'avviso di garanzia tu perdi il lavoro, cioè questi due mondi sono disgiunti, tu stai facendo bene, hai il tuo lavoro, ti abbiamo messo nel comitato direttivo, peraltro lui lavorava veramente bene sia con il presidente che con l'amministratore delegato, Davide era uno molto bravo da un punto di vista tecnico e con buone relazioni, però questa cosa non io l'ho visto molto molto entrare in questo loop abbastanza un po' ossessivo e ripetitivo da questo punto di vista, cioè quella roba lì è stata per lui molto molto pesante, adesso io non mi ricordo, purtroppo sono passati nove anni, non mi ricordo temporalmente la data in cui lui fa questa cosa, lui mi racconta anche una modalità molto, perché lui ha vissuto, io poi non c'ero anche molto cruenta, sono entrato in casa, gli hanno detto mettimi tutto via la roba, cioè si è sentito molto, lui mi raccontava, io non c'ero, questa cosa non l'ha raccontata solo a me, l'ha raccontata anche all'amministratore delegato, cioè era una cosa che per lui era agli amici della città, quindi questo è stato un aspetto su cui lui ha fatto molta fatica a riprendersi, cioè io l'ho visto molto cambiare da questo punto di vista, poi questo evidentemente non ha penalizzato la sua performance lavorativa, quindi bravo da questo punto di vista a cercare di continuare a fare avanti la sua roba, però c'aveva questa sessione, io me lo ricordo, diceva ma io ho muto, non ce la farò, quindi molto molto, diceva che dormiva poco, che insomma non stava bene evidentemente. Ma è a seguito di queste confidenze che lui le faceva, che poi avete disposto quel coaching, o in generale per un discorso più... No, noi avevamo disposizione, questa era una persona che lavorava con alcuni manager e di volta in volta si valutava secondo del motivo se a chi affiancarla, nel senso che non era una cosa che facevamo per tutte le persone. Quando ci siamo resi conto che lui era molto preoccupato, noi evidentemente siamo intervenuti come azienda per cercare di fargli capire che lui era molto stimato e quindi per la parte lavoro, quindi dire ma proviamo a dargli qualcuno un coach che lo aiuti a capire che in realtà lavorativamente lui non ha problemi, che è su questo aspetto e anche come segnale di solito questi coach si danno anche a persone di potenziale, nel senso che lo fai su una persona che vuoi investire, quindi da una parte abbiamo detto ti diamo questa persona, una persona su cui puoi investire e che anche può essere, se lo tu vorrai, un punto di ascolto. Poi noi come azienda evidentemente... Quando parla al plurale, noi come azienda, lei intende che questa era una decisione condivisa oltre che da lei, dall'amministratore delegato? Sì, perché quando si fanno dei coach per quanto riguarda la prima linea, quindi sulla prima linea dell'amministratore delegato si condivide con l'amministratore delegato, invece se si fanno delle scelte sotto si condivide con il capo, lui era una prima linea di una posizione importante dell'amministratore delegato, quindi adesso devo dire la verità che non mi ricordo se addirittura venne da lui la proposta o se comunque mi chiese cosa ne pensassi e tutti eravamo... Davide era molto... Quando dice tutti... No, dico quando lui me ne ha parlato... Lui, se la polizia viola... Sì, sì, nel senso che quando ne abbiamo parlato la reazione è stata molto positiva. Poi, le ripeto, non so com'è andata perché siccome questo poi è un processo che per privacy una volta che uno dice ti diamo questa persona, fai un percorso, il capo e il direttore del personale, come dire, si staccano, quindi... Quindi lei non è stata relazionata dalla coaching sull'esito dei colloqui che erano stati... No, anche perché teoricamente... Io no, anche perché per deontologia non si... Cioè quello che la coach può fare è se tu gli hai dato un obiettivo a uno che vuoi dire guarda noi vorremmo che tu crescessi e diventassi di... ma questo non era il caso, quindi era una... Quindi io non fui relazionata. So, non so se lei mi dicesse anche quanti incontri ha fatto o no, però so che quando ne abbiamo parlato lui l'ha vista come una cosa positiva, ecco questo che dico. Questo io mi ricordo... e il fatto che ci sia andato, anche perché non è una cosa che l'azienda obbliga. L'azienda dice se noi abbiamo pensato a questa cosa, eccetera, eccetera, e se poi il dirigente dice per me è una cosa utile, la fa. Lei l'ultima volta che ha visto Davide Rossi se lo ricorda? Sì, mi sembra... Forse 4-5 giorni prima di quello che è successo, perché mi sembra che avessimo fatto un accordo ma non mi ricordo, ci eravamo visti per fare il comunicato, poi io gli avevo telefonato però non mi ricordo esattamente... se era il lunedì, non mi ricordo, non mi ricordo esattamente quando. E... direi... non saprei... cioè dal mio punto di vista rispetto al suo stato d'animo questo non cambiò, cioè nel senso che... comunque... c'era un po'... continuava a persistere questo stato di grande preoccupazione. E direi questo fino... credo le cose salienti fino... fino all'evento. Per quanto... Lei quella sera dove si trovava, quando ha saputo dell'evento... A casa. A casa. E' stata avvertita da qualcuno? Sono stata avvisata da Viola. Ah, da Viola. Da Viola, che mi chiamò, che non era in Italia, eh... E... mi disse... Eh... vai in banca, cerca Mingrone, è successa una... una cosa a Davide. Questo... quello... per cui io sono uscita. In realtà Mingrone l'ho incontrato... Che... che veniva da... diciamo dalla strada che poi portava al vicolo... Banchi di città che portava da Vicolo di Rossi. E mi disse appunto... Guarda... Davide... Allora, in quel momento, mi disse... Davide... Davide si è ammazzato... Davide si è ammazzato... Davide si è ammazzato... Io sono... sono scesa... Nel frattempo è arrivata l'ambulanza... Erano arrivati... arrivati i soccorsi... Purtroppo l'ho visto... E... Nel senso che c'erano... Stavano... Ma in qualche maniera i soccorsi stavano intervenendo... Ho chiamato la moglie... Perché non sapeva... non sapeva niente... Quindi l'ha avvertita lei? Sì... L'ho avvertita la moglie... L'ho chiamata... E... Niente... La mattina dopo sono andata a casa dalla moglie... E dalla figlia Carolina... La mattina... Ho passato... Diverse ore con loro... E... Ma diciamo più in un ruolo personale... Che in un ruolo evidentemente istituzionale... Nel senso che... Credo di essere stata l'unica persona... Nel senso che... Almeno all'inizio ho avuto questo... Diciamo... La conoscevo... Quindi... E... Lei curò anche mia figlia un paio di volte... Mi dedia una mano quando aveva la febbre... Quindi insomma... Non potevo non... Non andare... E... Anche lei mi disse... Quella mattina che... Ma... Condivideva con me... Che era stato un periodo in cui lui era molto... Adesso non voglio usare un termine che poi può deviare... Insomma... Anche lei... Questi aspetti... Queste preoccupazioni... Queste un po'... Non credo che sia giusto dire il termine ossessioni... Ma non so quale usare... Cioè questa... Questa continua preoccupazione di quello che poteva succedere... L'aveva manifestato anche a lei... Anche lei mi disse... Spesso esce per andare a correre... Poi però mi dice che non va per questa... Mi diceva che non andava per questa cosa qui... E vabbè... Poi... Niente le... Lei stava molto... Evidentemente stava molto male... Ci disse che non ce l'avrebbe neanche fatta... A venire ai funerali... E questa... E tutto quanto... E... Poi... Diciamo... Il periodo a seguire... E... Secondo me... Ma... Come... Come è plausibile... Suddivisibile in due momenti... La prima fase... Caratterizzata da una grandissima emotività da parte della famiglia... Ma anche con una richiesta un po' di aiuto... Di capire cosa si potesse fare... Perché c'era una grande preoccupazione anche economica... Insomma... C'era un mutuo impegnativo... C'era... La figlia che stava studiando... Lei che non aveva... Un lavoro... Aveva un lavoro un po' precario... Un part time... Eccetera... Ehm... Quindi... Come si... Come si fa con tutti da questo punto di vista... Nel senso che peraltro Molte Palschi è una banca molto attenta... A seguire i dipendenti... Anche in situazioni... Diciamo... Ad accompagnarli... Diciamo... Negli aspetti più personali... Da questo punto di vista... Magari è meno fredda di altre aziende... In Montepaschi c'è una... Una procedura... Una regola definita dal contratto integrativo interno... Dove in caso di decesso... Laddove ci sia o un figlio... Ehm... Maggiorenne... E una moglie che non ha lavoro... È previsto l'assunzione in banca... Quindi abbiamo spiegato... Ad Antonella... Che lei... Come tutti... Avrebbe avuto diritto all'assunzione in banca... Che il contratto nazionale prevede che in caso di morte venga liquidata una somma pari al preavviso... E questo... Quanto... Quanto poteva e quanto era il preavviso per un dirigente... Io mi ricordo... Allora... Mi ricordo vagamente che la retribuzione di Davide Rossi era di 250 mila euro più un variabile... Il preavviso viene calcolato... Il preavviso viene calcolato... Però non mi ricordo il variabile... Perché si fa la media... Sì, sì... Vabbè ma... Si fa la media degli ultimi tre anni... Per cui il totale... È diviso... 12 per il numero di mensilità che prevede il contratto... Nel caso suo il preavviso sarebbe ammontato a circa 6 mensilità... Che però vengono pagate per legge a integrazione del TFR... Quindi diciamo sono vicino quasi a 8-9 annualità... Per cui una cifra intorno ai 200 mila euro... Nel suo caso la cifra venne arrotondata un pochino più all'alto... Perché Antonella prima ci chiese di aspettare... Che voleva... Insomma non stava bene... Quindi non ce l'avrebbe fatta a venire a lavorare in banca... Quindi poi ci disse che non era interessata... E quindi andavamo anti così... In questa fase... Quindi in questa fase dove loro erano seguiti... La famiglia era seguita dall'avvocato Lepri... Che era un amico carissimo di Davide Rossi... Quindi l'approccio era stato di dire... Va bene spiegatemi cosa ha diritto la famiglia... La pensione... L'assunzione sembrava una cosa desiderata... La pensione era maturata... Aveva maturato... Sì lui aveva maturato la reversibilità verso la moglie... Anche perché lui aveva una contribuzione come giornalista... E quindi aveva... Quindi c'era una posizione di reversibilità... Che poi è stata riconosciuta ovviamente... Sì sì dalla società... Quindi quando ci sembrava di aver... Insomma definito un po' tutte queste cose che vi ho detto... Che insomma non sono bellissime parlando di una persona che non c'è più... Ci fu un cambio... E invece della... Dell'avvocato Lepri... Venne scelto un altro... Ci fu un cambio di legale... E anche di linea difensiva... Assolutamente... Cioè un cambio radicale... Un po' particolare... Nel senso che subentrò l'avvocato Gregoracci... Che chiese un incontro... A me e a Viola... A cui presenziò evidentemente solo lui... Naturalmente... Noi la famiglia... Non l'abbiamo sempre... Quando dico la famiglia... Dico Lepri prima... E Gregoracci dopo... Quindi l'unica che ha avuto qualche momento in questa prima fase sono io... Ma non come manager... Come persona... Per i motivi che vi ho raccontato... E lì... Prima mi sembra ci fu una specie di capire se c'era una responsabilità... Con l'INAIL quando c'è un infortunio... Si può vedere se c'è una responsabilità da parte dell'azienda... Quindi fu fatta una sorta di richiesta all'INAIL... Per cercare di vedere se... Scusa... Cercare di vedere se questa cosa che era successa... Era assimilabile a un infortunio sul lavoro... E quindi... Se l'azienda... Avesse... Fosse stata manchevole di qualcosa... Non viene... Non venne riconosciuto... Dall'INAIL e questa cosa... E Gregoracci chiese di vederci... A me a Viola... E lì... Ci fu questo momento un po' triste... In cui ci disse che... Lui aveva delle mail... E io... È la prima volta in quel momento che senti parlare di queste mail... E che si poteva venirsi incontro rispetto all'integrazione... Da dare a... Diciamo... Da riconoscere alla famiglia... E lui usò questa... Questa espressione... In una... In un importo... Riconducibile alla buona uscita... Che fu dato a Vigni... Vigni era il direttore generale della banca... Diversi anni prima... Insomma... Come potete immaginare la reazione... A mia c'era anche una reazione emotiva... Perché insomma... Pensavo che se lì... Ci fosse stato Davide... Non so come... Non so come dire... Non apparteneva sicuramente alla persona... E... Gli disse... Noi dissimo... Guardi... Queste cose... Noi non negoziamo... Siamo allibiti... E comunque... Se lei ritiene che... Di avere gli elementi per... 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 Per farci qualcosa... Perché noi siamo stati manchevoli... Procedete... Perché... Voglio dire... Però... Fu abbastanza imbarazzante... E anche veramente triste... Per me di sicuro... Senta una cosa... Fra i... I benefit... Di cui godeva Davide Rossi... Come manager di prima fascia... Della banca... C'era anche una polizza vita? Sì... Lui ebbe di... Certo... Sì scusate... Io mi... Questa non entrò... Allora Davide Rossi... Ma questa vale per tutti... Cioè voglio dire... Sì sì vale per tutti... In generale... Sì sì sì... Quindi gli venne liquidata... Non solo in quella banca... Ma in generale in tutte le banche... Credo... Venne liquidata la polizza vita... E... Loro chiesero anche una mano... Per la ristrutturazione del debito della casa... E sì... Ecco... E poi l'altra domanda... C'era anche una polizza vita legata al mutuo? C'era una polizza vita legata al mutuo... Però c'era... C'era una polizza vita legata al mutuo... Lì però non mi ricordo bene... Perché non l'ho seguita... Cioè l'ha seguita più la parte business... C'era... So che c'era all'inizio la preoccupazione che questa polizza vita non coprisse il suicidio... E la domanda che le volevo fare era appunto questa... Queste polizze vita comunque coprivano o non coprivano l'eventuale suicidio... Tanto per avere un'idea... Sai che... A sensazione le direi di sì... Che l'avevano coperto... Però... Verificatelo perché non... So che ci... Forse quella che aveva fatto per la casa sì... Era stato... Credo che si possa poi quando si stipola la polizza decidere... Però non lo so veramente io... Veramente è un punto che non... Che non l'avete affrontato come azienda... No, che è stato affrontato... Ma non l'ho tanto affrontato... Cioè uno non me lo ricordo... Guardi veramente non me lo ricordo... So che c'è stata tutta questa fase di analisi... Di recupero delle polizze eccetera... Però mentre la polizza vita... È in capo al direttore del personale... Perché è un benefit legato alla persona... Le polizze... Eventuali investimenti... Tutta la parte diciamo che appartiene... Alla persona non in quanto dipendente... È qualcosa che è stato visto direttamente... Certamente credo dagli avvocati con... O le società di assicurazione... O la banca... Per dire se... Sicuramente lui aveva il mutuo con Montepaschi... Quindi avrà trattato quella parte business... Non è una cosa di competenza della direzione risorse umane... Quindi io so la polizza vita... E quella mi sembra che gli fu... Quella gli fu erogata... E basta... E basta... Poi non so... So che loro... All'inizio quando si trattava con Lepri... Ci chiesero una mano per vedere se era possibile fare la ristrutturazione del debito... Che peraltro... Cioè è una cosa che si fa tutti... Non è una... Nel senso che se uno... Che vuol dire che il debito rimane sempre lo stesso... Abbassi il valore della rata... E allunghi il periodo... E in effetti in un momento in cui il gettito finanziario diminuiva... È una prassi... Però non mi ricordo come è andata... E lì... Basta... Io direi che dopo questa cosa... I rapporti si sono interrotti con l'azienda... Che meno sicuramente con la parte nostra... Ci è stato comunicato... Abbiamo riscritto... E sollecitato... Se la moglie Antonella fosse interessata... È stata l'assunzione... Ci è stato detto di no... A quel punto... Abbiamo appunto fatto quello che le dicevo... Cioè abbiamo dato... Quello che è previsto in casa di morte... Cioè l'indennità sostitutiva del preavviso... L'abbiamo arrotondata un pochino di più... Perché lei non ha accettato evidentemente l'assunzione... Quindi veniva... Ma stiamo parlando forse di una mezza di tempio... Dopodiché non abbiamo... Io non mi ricordo di aver avuto altre... Poi fino al 2019... Lei mi pare che ha cessato il rapporto con Montepaschi nel 2019... Non sono state attivate controversie civili da parte della famiglia... Verso l'azienda? Sì, verso l'azienda... No... Io sappia no... Non ci sono stati più... No, c'è stato... Adesso non so se il termine giusto è un processo... Ma comunque... Ma quello penale mi sembra... Nel senso dove noi siamo stati... Io sono stata interrogata dal Tribunale di Siena... Come se fosse... Non come se fosse oggi... Però dove mi è stato chiesto... Il Tribunale penale o civile? In aula pubblica? In aula pubblica... Sì, sì... Con il pubblico vestito... Quindi probabilmente... Un processo penale probabilmente... Ma non quello civile... No, penale... Cioè quello per accertare... Scusi... Quello che si è aperto... Dopo la morte di Davide Rossi... Per accertare... Che tipo... Che cosa era avvenuto... Che poi si è chiuso... Decretando... Sì, sì... No, ma siccome lei aveva ipotizzato... L'avvocato di cui non ricordo il nome... Aveva ipotizzato il penale... L'avvocato che lei ha citato il secondo... Dopo la cambiata... Aveva ipotizzato una controversia civile... Nei confronti della banca... Se ho capito bene... Sì, poi non la fece... Almeno fino al 2019... Non è stata fatta... Fino che lei è rimasta... Nelle sue funzioni... Di direttore personale... Scusi, mi sono espressa male... Non ha detto questo... Quello che è stato fatto... All'inizio... Prima di trovarci a parlare di questa cosa... È stata fatta... Diciamo... La denuncia all'Inail... Per vedere se l'azienda fosse responsabile... Quando noi ci siamo trovati... In questa situazione un po' così... Che lei ha disperito un po' sgradevole... Un po' sgradevole... Lui ha detto... Io ho queste mail sul cellulare... Troviamo un accordo... Che sia più... Meglio di quello che... Si stava ragionando... E lì disse... Non disse una cifra... Disse... Parente dell'uscita... Che venne data... A Vigni... Sì, ho capito... Però... Immagino che l'avvocato... Facendole vedere... Queste mail... Avesse ipotizzato... Ci potesse essere una responsabilità... Diciamo... Lui non l'ha detto... A me non l'ha detto... Lui ha detto... A questa cosa... Potremmo... Stiamo... Negoziamo questa... Questa cosa qui... Quindi questo... A me non è che mi ha detto... Ah... Vi faccio... Non vi faccio... Ho detto semplicemente... Sono qua per cercare... Di avere una maggiore... Una maggiore uscita... Cioè... Una maggiore... Importo... Di quello che aspetterebbe per legge... E noi gli abbiamo detto che... Cioè... Non esisteva... Perché non c'era... E lui ha detto... Beh... Però... Insomma... È finito... È durato... Il tutto è durato... Penso... 15 minuti... 10 minuti... Senta... Volevo tornare... Lei ha detto che è stata la persona che ha avvertito la moglie del decesso di Davide Rossi... Magari se ci dice qualcosa... Immagino che è stata una conversazione difficile... Complicata... Se ci vuole raccontare qualcosa... Perché mi ricordo di quel momento... Non è una telefonata che è durata molto... Nel senso... Che io gli dissi... Ma allora... Lei viveva già in uno stato di preoccupazione... Perché... Quella sera... Poi questo io l'ho saputo dopo... Però... Adesso in un orario che potrebbe essere tra le 8 meno un quarto e le 8... Lei chiama il marito... Il marito non risponde... Preoccupata... Chiama un collaboratore di Davide... Che era anche amico... Andavano a correre insieme... Filippone... Filippone... E gli chiede la cortesia... Di andare immediatamente a vedere cos'era successo... Quindi... Evidentemente c'era un stato di preoccupazione... Nel senso che... Davide faceva un lavoro in cui era normalissimo uscire in orari tardi... E anche il non rispondere al telefono... Insomma... Per una posizione come quella... È una... Cioè... Ci sta... Non so come dire... Non è così... Quindi... Lei chiese questa cosa... E Filippone... Andò lì... E... Andò lì... E vide l'ufficio con la finestra aperta... Questo mi disse dopo... Quindi evidentemente... In lei c'era... Chiamiamolo il sesto senso... Una preoccupazione... Perché... Insomma... Io... Se chiami uno che è a casa e gli dici... Vai a vedere... Insomma... C'è una preoccupazione... Se no non lo fai... Quindi... Insomma... Quando io l'ho chiamata... Gli dissi... Guarda... Davide... Poi non è che... Gli ho raccontato... È successo questa cosa... È successo... Davide... È morto... Così... Non è che sono... Al telefono... Gli ho raccontato... Eccetera... Ma lei è sicura che è stata la prima... Cioè... La reazione è stata proprio quella... Che era la prima informazione... Senti... A me sembra... Adesso mi fa venire il dubbio... Se ho chiamato lei o il fratello... Sai che è un dubbio allucinante... Di chi ho chiamato... Però... A me sembra di averla chiamata io... Adesso poi dopo nove anni... Siccome poi ho parlato... Potrebbe avere invece... Diceva che forse... Ha chiamato il fratello di lei... No... Mi sta venendo il dubbio... Ma no... Ma a me sembra di aver chiamato lei... Però guardi... Non lo so... Che ha detto a lei... Perché lei magari... Giustamente se lo ricorda meglio di me... Comunque... Al 90% ho chiamato lei... Se invece ho chiamato... Il fratello... Non me lo ricordo... Però mi sembra a lei... Perché poi mi confondo... Che la mattina sono andata lì... Beh... Cosa... Beh... È anche un momento difficile... Cioè... Quindi adesso oggettivamente... C'era una persona... Comunque voglio dire adesso... Cosa ha detto... Non lo so... Sicuramente c'era una persona distrutta... No... Perché... È chiaro che... È un momento difficile... Io avrei concluso... C'era l'onore della Carra... Che aveva chiesto... Di fare qualche domanda... Sì... Grazie Presidente... Grazie Dottoressa... Per la disponibilità... Un primo punto... Magari una precisazione... Sulla ristrutturazione del debito... Che è evidente... Che a quel punto... È in conflitto con l'ipotesi... Che possa essere stata... Utilizzata una polizza... Perché se la polizza sul mutuo... Avesse avuto vigore... Probabilmente avrebbe estinto... La debitoria... Contratta... Quindi... Probabilmente voi avrete... Liquidato... O meglio... L'istituto avrà liquidato... La polizza quella... Quella vita... Quella personale... Non quella... Sul mutuo... Perché effettivamente... Come lei dice... L'ipotesi di suicidio... È una causa... Di morte... Che esclude... Quasi sempre... L'operatività... Della polizza stessa... Le domande che voglio fare... Sono molto... Sintetiche... E attengono... Alla prima parte... Poi magari la collega... Cenni si ritiene... Andrà sulla fase successiva... La prima parte... È quella legata... Diciamo... Ai suoi rapporti... Con Davide... Lei arriva a Siena... Quando... Lei non è ovviamente di Siena... Ha detto che si è trasferita a Siena... In occasione del suo incarico... Che è avvenuto... 2012... Quindi esattamente... Pochi mesi prima... Dell'evento di cui stiamo discutendo... Giusto? Un anno prima... Giugno ha detto... Da giugno a marzo... Sì... E quindi giugno siamo... Sì... Sì... Meno sicuramente di un anno... In questo anno... Lei ha detto di aver... Stretto un ottimo rapporto... Con Davide Orsi... Anche se possiamo dire... Possiamo definirlo... Quasi confidenziale... Ho detto semplicemente... Che con Davide Rossi... Come collega... Ero... Lavoravo... Uno perché era... Era comunque... Uno del comitato... Cioè era comunque un mio PR... Lavoravamo tanto... Sia per la parte di interazione... Eccetera... E che poi... Vivendo a Siena... Ho avuto... Delle interazioni... Che magari sono state... Più... Diverse... Da altri colleghi... Che andavano da lunedì al giovedì... Ho citato due cose... Ma adesso... No ma... Il motivo della domanda è legato al fatto che... Volevo capire se c'era quindi la possibilità per lei di incontrarsi spesso... Per ragioni di lavoro evidentemente... Con Rossi... E se quindi... Come capita fra colleghi... C'era l'occasione anche di... In qualche modo... Scambiarsi opinioni... Rappresentare stati d'animo... Opposizioni rispetto al lavoro... Insomma... Un approfondimento di un rapporto che capita... Diciamo... Fisiologicamente... Fra colleghi che sono... Che lavorano a stretto contatto di gomito... Direi... Adesso non so cosa intende per frequente... Però sì... Sicuramente... Non dico tutti... Nel senso... O tra riunioni... Tra cose che si doveva fare... O... Avendo lui un ruolo... Non so... Istituzionale... Magari c'erano degli eventi... Delle cose... Quindi... Cioè... C'erano tante occasioni di incontro... Che non è che fossero semplicemente che... Lui veniva per prendere il caffè nel mio ufficio... Quindi noi avevamo diverse interazioni... Di riunioni... Di cose... Poi... All'inizio... Anche un po' di introduzione... Nella... Nella... Nella città... Dove... Il mio arrivo è stato... Come dire... Ha generato tanto... Tanto lavoro alla comunicazione... Perché io sono arrivata lì... Due mesi dopo... Ho disdetto... Un piano industriale... Un contratto integrativo... Ho mandato a casa 250 dirigenti... Ehm... Come dire... Quindi... Ci sono state tante 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 cose... Quindi in qualche maniera... Era sicuramente... E' coinciso anche poi con... Evidentemente con le vicende anche giudiziarie... Che hanno interessato poi... Di fatto quasi contestualmente... Il gruppo... No? Sì, sì, certo... Allora... Perché le faccio queste domande? Perché è evidente... Il mio obiettivo è provare a capire... Se lei avesse individuato... Nello stato d'animo di Rossi... Che lei già ha raccontato... Come... Cambiato radicalmente... Subito dopo la... Eh... La perquisizione, no? E quindi... Se questa modifica... Che se lei ha percepito... In maniera così netta... Deve essere stata... Piuttosto... Come dire... Eh... Evidente... E anche... Diciamo... Profonda... Rispetto al suo modo di essere... Tanto che lei ha parlato... Eh... Non ha voluto usare il termine ossessione... Ma ha usato un termine per indicare... Che questa cosa... Li occupava... Gran parte della giornata... E dei discorsi che faceva... Sì... Nel senso che... Non è che venisse tutti i giorni... Però... Era un argomento che lui... In qualche maniera... Eh... Di cui parlava... Magari era anche una cosa positiva... Il fatto che non ne parlasse... Eh... Però... Cioè... Cioè... Mentre... Quando io l'ho conosciuto... Era una persona molto razionale... Peraltro una persona cultissima... Piena di interessi... Eh... Eccetera... Questo fatto... Ha fatto un click... Io rispetto a quello che posso... Vedere io... Cioè... Queste frasi che le ho citato... Non è che poi veniva tutti i giorni... Però... Il... Il... Il dirmi appunto... Questa sua grandissima preoccupazione dell'arresto... Questa... Sua preoccupazione che... Questo le avrebbe comportato... L'essere licenziato... Tutte queste cose qua... Eh... Evidentemente... Erano cose che lui viveva... Che raccontava... A me ha raccontato... Ma sono sicura che non solo a me... Ed era qualcosa che l'aveva... Preoccupato... Che l'aveva turbato... Ne ha mai parlato di un suo... Eh... Come dire... Imminente desiderio di togliersi la vita? No... Mai... Poi lei ha conosciuto... Eh... In tempo reale... Cioè prima che fossero divulgate... O comunque prima che succedesse l'evento della mail mandata a Viola... In cui si chiedeva aiuto... E si... Non ne ha mai avuto conoscenza prima... E secondo lei... Eh... Questo... Atteggiamento... Diciamo anche di preoccupazione... Molto forte... Che aveva... Poteva essere determinato a qualche altra causa... Cioè... Ha mai avuto il sospetto che qualcuno... Potesse fare del male a Davide Rossi... Per qualsiasi ragione... O lui ha manifestato preoccupazioni rispetto a vicende che non fossero squisitamente quelle legate alla perquisizione e alla vicenda giudiziaria di Montepaschi? No... A me quella preoccupazione che ha manifestato è la modalità dell'ispezione... Il fatto che gli avessero preso il computer e quindi... Che io gli dicevo ridendo... Eh Davide... Cioè cosa c'è... L'amante... Che te frega... Questa cosa qui... E la convinzione... Cioè la convinzione... La paura che sarebbe stato arrestato... Che sarebbe stato arrestato e che avrebbe perso il lavoro... A me non ha mai parlato di... Poi magari le farò una domanda insegretata se sarà possibile... Poi se il Presidente me lo consentirà... L'ultima domanda... Anche io ho una cosa insegretata... L'ultima domanda che voglio dire è che tipo di attività... Cioè che tipo di rapporto rispetto all'istituto bancario aveva con la gestione di risorse per sponsorizzazioni... E che tipo di potere aveva in ordine alle decisioni su queste sponsorizzazioni, su questa erogazione di danaro per finanziare iniziative, attività... Fra queste so il Palio di Siena, la squadra di calcio, la squadra di basket e quant'altro... Sicuramente a livello di potere la cifra non la so... Sicuramente è una delle più importanti che io abbia mai visto nelle vite aziendali... Nel senso però non so come dire darne una valutazione in una realtà come quella... Nel senso che lui era la persona di fiducia degli apicali che c'erano prima e quelli che c'erano... Evidentemente ci sarà stata una procedura... Non so com'era... Non so se c'era una procedura che prima deliberava in consiglio e poi lui in qualche maniera... Però sicuramente era una persona... So che sembra così difficile da rendere... Ma Davide era una persona molto importante per la città... Cioè era l'anello di congiunzione tra una banca che rappresentava tutto... Che ha rappresentato tutti quegli anni... E una città... E le promalazioni di quella città... Quindi credo che una persona che comunque si è sempre percepito come una persona di valore... Una persona di potere... Una persona importante... Si trovi improvvisamente buttato sulla stampa... Sui blog... Quando cominciano tutta una serie di vicende... C'è anche concomitanza... C'è anche il fatto di Mussari che viene uscito dall'ABI... Viene arrestato... Questo sicuramente... Cioè io immagino... Non lo so... Però hanno lavorato... Il mio capo con cui ho lavorato tanti insieme... Non è un elemento che non mi scuote... E quindi c'è tutta questa roba... Il suo mondo... Cioè il suo ruolo... La gente... Non so come dire... Come ti senti... Non puoi star bene... Se tu sei stato... E poi arrivano la finanza... Ti porta via il computer... Vai sulle giornali... Sui blog ti scrivono... Davide ero... Capito? Quindi... Quindi probabilmente... Questa cosa... È difficile da rendere... A chi non è stato per sette anni a Siena... Lei dal 2019 non è più a Siena... Giusto? No... Non vive più a Siena... Ok grazie... Donnevere Migliorino... Grazie Presidente... Grazie Dottoressa... Sono qua... Buonasera... E... Volevo ritornare su alcuni piccoli... In particolare di quella sera... Che mi hanno colpito... Poi le farò qualche domanda... Un po' più sul generale... E... Si ricorda lei... Più o meno a che ora è arrivata... E poi vediamo qualche... Diciamo... Qualche indicazione che ce lo fa capire... Perché ha dato dei particolari... Lei più o meno si ricorda... Stava a casa e vedeva una trasmissione... Cioè nel senso... In modo per riuscire a capire... Sono arrivata in un orario che va... Tra... 8 e mezza... Non lo so... Perché se ero arrivata a casa... Di solito non arrivo a casa presto... Ero lì con mia figlia... Ero arrivata a casa da poco... Quindi sicuramente... Penso dopo le 8 e un quarto... 8 e mezza... Una cosa del genere... Non me lo ricordo... E questo è un orario diciamo... Minimo di tolleranza... Un orario massimo più o meno di tolleranza... Che dice no... Dopo quel tempo no... Perché sono sicura che... Non lo so... Magari stavo dentro il telegiornale... Ancora non era finito... Cioè faccio questo esempio... Non dopo le 9 e mezza... Ma quindi diciamo... Bello largo come tempo... Diciamo tra le 8 e un quarto... E le 9 e mezzo... Non lo so... Non me lo ricordo... Sono passati 9 anni... Sì certo... Certo... No era bene... Però si può... Se andate a vedere le testimonianze... Che ho fatto in tribunale... Tutto... Sì sì ce l'ho tutto qua... E... Volevo chiederle... Perché mi ha colpito un po'... Lei dice che arriva... E dopo... Cioè lei arriva lì... A Via dei Rossi... Molte volte si definisce Vicolo... Perché come sa no... La strada principale... Via Banchi di sopra... Però... Magari uno può confondersi... E dire Vicolo... Via dei Rossi... O Vicolo... Quello di Montepio... No... Retro Casalimbeni... Quindi... Diciamo in Via dei Rossi... No... Lei... Tipo... Non so... 600 metri... Ci può dire più o meno dove abitava... Anche se non... Sì sì... Via Montanini... Ah via Montanini stava... Ah ok... E... Quanto tempo più o meno... Il Giorino è di Siena... Ah ok... Ah ok... Noi siamo da fuori... Quindi questi dati... Non siamo in grado di coglierli... Ma lui... Sì sì... Ci sta dal 98... E... Quindi... Lei sa questo... E scende immediatamente... Oppure... Prende del tempo... Si veste... Come posso dire... Io cerco di farlo un po' ricordare... Ovviamente piano piano... Ecco... Quindi so che c'è stato tanto tempo... Ma... Se può fare un po' di mente locale... Per favore... Il tempo di... Eh... Gestire mia figlia... Dicendogli che... Come ci aveva... 12 anni... Ed era sola in casa... E di dirgli... Ascolta... Lucrezia... Io devo riuscire... Di... Rimettermi... Una cosa... Cioè... Tra la telefonata... Non so... Saranno passati 10 minuti... 5... Non lo so... Non mi ricordo... Quindi 5-10 minuti... E poi è scesa... E poi è arrivata lì... Piazza Salimbeni... C'era l'ambulanza... Tra Piazza Salimbeni... C'era lì un'ambulanza... E lì è incontrato Mingrone... Tra Piazza Salimbeni... E l'Arco dei Rossi... O proprio ferma Piazza Salimbeni... Mi sembra fosse ferma in San Piazza Salimbeni... Ho capito... E incontra il Dottor Mingrone... Che stava parlando con i tipi della tombulanza... Non lo so... Non mi ricordo... Vabbè... Però come è arrivata lei... A Via dei Rossi... Diciamo... No... Perché lui mi ha detto... Davide... È successa sta cosa... Davide si è ammazzato... Lui mi ha detto all'inizio... Non andare... E poi io invece sono andata... Ho capito... Non andare... Non andare nel senso che... Hai visto la situazione... Sì perché c'era il corpo magari in questo senso... E quindi Mingrone poi... Visto che l'ha visto in quel momento... È andato con i sanitari del 118... C'era la tombulanza a Piazza Salimbeni... E Mingrone poi in quel momento con i sanitari del 118... È andato nel vicolo o come... No... Non lo so... No non c'era nel vicolo... No non ho capito... Cioè... Quando lei arriva... Eh... L'ambulanza era a Piazza Salimbeni... Sì... Perfetto... Mingrone era già... Veniva via da lì... Veniva via da lì... Veniva via da Vicolo De Rossi... Lui era già stato lì... Perché c'era stato Filippone... Non so... Comunque lui veniva da lì... Ok... Nel frattempo qualcuno... Non so chi ha chiamato l'ambulanza... E... L'ambulanza... Ma... E quindi io l'ho incontrato... La gente dell'ambulanza secondo me era già andata giù... Perché io non è che... Però non andare lei è già andata... Sì... E quando è arrivata... C'erano già i sanitari del 118 o ancora no? Mi sembra di sì... Ok... E si ricorda chi c'era più davanti... Diciamo... Sempre in via dei Rossi... Diciamo davanti al Vicolo... Secondo me non c'era nessuno... Poi è arrivato dopo Valentino Fanti... Ho capito... E non c'erano poliziotti, carabinieri, qualcuno? Forse... So se stavano arrivando... Però ancora... Quando arriva lei... Prima diciamo dei poliziotti... In questo caso... Mi sembra di sì... Ok... E... Lei ha avuto anche il coraggio un po' di entrare nel Vicolo... O si è fermata soltanto all'ingresso di Montepio? No... Mi sono fermata... Beh... Mi sono fermata... Cioè non è entrata nel Vicolo? A questo le chiedo? No... No... Sembra che un piccolo sforzionale... Vedo che sta facendo... Ecco... Sono interessanti... E le cose... Secondo me molto... Che sta dicendo... Ha visto qualche particolare... Che l'ha colpita... Appena arrivata... Cioè si è affacciata... Ma... Che si arriva a Via dei Rossi... Cioè il Vicolo è là... Cioè uno si affaccia... No... Qualche particolare... Qualcosa che è un po' di... So che è difficile... Che tutti stiamo cercando di trovare le... Brava... Le spiegazioni... Però non so se lei me le è capitato di vedere mai una persona... Scoprire che la persona con cui ha lavorato fino a prima è morta... Non è che guardi tanto i particolari... Cerchi di stare in piedi e di non svenire... Ok... Quindi lei aveva un po' questa sensazione... Un po'... E... Era un mio collega... Certo... Certo... Però dico... E quindi... Diciamo che... Cioè non ho pensato alla ricostruzione della scena... No... 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 Io invece... Mi sembra una domanda legittima se lei avessi visto qualcosa di particolare... Cerco di renderle... Chi c'era vicino al corpo di Davide Rossi? Penso le persone dell'ambulanza... L'ambulanza o le persone del 118, mi perdoni? Le persone... Il paramedico... Non so chi... Quindi quando lei arriva c'erano già diciamo... Ok... E Mingrone era ritornato... Sì... Poi lo vede ritornare di nuovo... No... Non lo so... Non saprei dirle... Guarda io da quel... Posso dirle una cosa? Sì... Mettetelo pure a verbale... Da quel momento in poi... Avevo un pensiero... Come fare in modo che mia figlia... Non guardasse nessun internet, facebook... Perché lo conosceva ed era in casa da sola... E questo... Oltre a cercare di stare in piedi... E tenere insieme i pezzi... Di una persona che aveva lavorato con me fino al coso che vedevo così... Quindi non è che mi ricordo molto... Mi sembra... L'altra cosa che mi ricordo è che a un certo punto ci siamo posti il problema di avvisare la famiglia... So che poi è arrivato qualche parente... Il fratello di Davide... Insomma... Poi il vicolo si è popolato... Però... Rimaniamo un attimo se per lei va bene su questo punto... Lei incontra il dottor Valentino Fanti... Arriva dopo... Arriva dopo... Quindi arriva... Le ripeto... A me sembra di essere scesa e che lui sia arrivato appena dopo... Che forse non me lo ricordo... Comunque eravamo... È questione di attimi... Ok... E lei dice... Mi può ripetere chi l'ha telefonata e chi l'ha avvertita? Viola... Ok... Però ha messo un piccolo particolare che vorrei un attimo approfondire... Lei ha detto... Stava all'estero... Sì... Perché mi dice stava all'estero Viola? Cioè nel senso... Che cosa le fa ricordare quando l'ha chiamato stava all'estero? Che poi Viola non c'è stata tutta la sera... Cosa che non sarebbe mai successa se lui fosse stato lì... Però quando l'ha telefonata il dottor Viola... Ma io lo sapevo che Viola era all'estero... Era mio capo, era andato a Dubai quattro giorni... Ma... Ah quindi lei dice... Era all'estero ma quando l'ha telefonata stava genitali o era ancora all'estero? Ah no, non lo so, so che non era lì... So che era andato via e che il fatto che mi ha chiamato a quell'ora... Secondo me era ancora di... Non lo so, guardi... Scusa... Cioè nel senso... Non c'era... Non si ricorda che ha detto... Sto per prendere l'aereo, sono atterrato... Vabbè... Le dice qualcosa... Aiutatemi che voi... Io non l'ho mai fatto... Le ditemi quanto uno deve stare sempre tranquillo e gentile... Ma secondo lei... Viola viene a sapere che sta... Probabilmente si è ammazzato un suo collaboratore... Mi chiama per dire che è successa una cosa grave a Davide Rossi... E io dopo nove anni... Quello che mi... Ma non mi ricorderai se... Ma l'ha detto prima, quando ha chiamato stava ancora all'estero... Sì stava ancora all'estero nel senso lo dico... Penso che... Però se mi chiede è sicura... Giura sulla... Però vede, io lo sto chiedendo perché... Se poi rimane alle atti che per lei stava all'estero e poi non era all'estero... Allora sono cose diverse, no? Quindi io arrivo un attimino nella descrizione... La commissione sa che stava all'estero e tutte... È vero, però siccome quando... Cioè so che era a Dubai... So che sarebbe dovuto tornare o se il giorno dopo, dopo... Quindi ha detto che stava all'estero perché già sapeva che stava all'estero... Ma è il mio capo, aveva preso quattro giorni... Mi perdoni, quando l'ha telefonata... Ha detto qualche riferimento che stava all'estero, sto prendendo l'aereo... Ah no, non lo so, no, non mi ha detto... Non mi ha detto, Ilaria, guarda, è morto Davide Rossi, io sto prendendo l'aereo, arrivo domani... No, non me l'ha detto... Mi ha detto chi l'aveva contattato a lui... Mi sembra Mingrone... Perfetto... E... Ora... Lei rimane nei pressi un po' di Via dei Rossi... Prima che si ripopola un pochettino, diciamo... Sì, si è ripopolata, a quel punto si è ripopolata abbastanza, diciamo, velocemente... Ok... E... Si ricorda quando arrivano tipo le volanti della polizia o dei carabinieri? Molto dopo, poco dopo che lei... No, poco dopo... Poco dopo arriva la volante... Lei conosceva qualche uomo delle forze dell'ordine, tipo il colonnella Giego, faccio un esempio... Lo conosceva già? Non me lo ricordo... Comandante provinciale... Forse sì, forse li avrò incontrati... Non me lo ricordo... Prima, io dicevo, prima dell'evento ovviamente... Sì, sì, sicuramente li avrò incontrati in qualche cosa di... Lui era già nei pressi, diciamo, di Via dei Rossi... Lo vede, non lo vede? Non mi ricordo se io sono arrivata dieci, cinque minuti prima che loro le forze arrivassero... Se sono arrivata tre minuti prima o se mentre io andavo giù le avevo alle spalle... Non mi sembra di averle arrivate e averle davanti... Ok, cioè comunque non l'hanno bloccata, diciamo, non c'era qualcuno che bloccava... Ok, quindi lei ha deciso di non entrare... Però non c'era qualcuno che bloccava l'accesso... Questo, diciamo... Adesso per spiegarlo agli altri, scusate, Vicolo dei Rossi è un vicolo così... Sulla destra ha una via, sulla sinistra, quello che il dottore chiama Vicolo dei Pio, non è una cosa chiusa... Cioè non è che c'è un muro, è una via aperta... Per cui tu scendi, ok, se ti giri... Ci sei, ecco... Lo vedi, non è che... Quindi vabbè, è arrivata prima della posizione... Ora, si ricorda anche se c'era il dottor Filippone? No, no... Vuole l'acqua? No, no, me lo ricordo, non sa che non me lo ricordo... Se c'era o non c'era il dottor Filippone quando l'è arrivata? No, se dovessi diglielo, ma ricordi ricostruiti a posteriore... Probabilmente loro erano già con... Tipo carabinieri, cose, a parlare di sopra, in banca... O da loro, non lo so... Mi stai dicendo di loro, parlando di Filippone... Perché mi usa il plurale, perdona? Filippone perché poi secondo me andò anche in ingrone, però non me lo ricordo... Ok, in questo senso... E... L'ha visto poi quella sera il dottor Filippone a Via dei Rossi? No. Ok. Perché mi dice che erano andati... Che il dottor Filippone era andato in banca con della polizia? Cioè nel senso, ha avuto modo di parlare dopo? Non mi ricordo, so che lui non c'era più lì... Non so se perché era andato via o se perché a un certo punto sono stati chiamati come... Non me lo ricordo... Non me lo ricordo... Vabbè, però dei giorni successivi ha avuto modo di parlarne con il dottor Filippone? Di che cosa? Eh, di questi fatti, cioè che ciò che era successo... Sì, sì, quello che lui mi ha detto, quello che gli ho raccontato, che la moglie l'aveva chiamata dicendo che era veramente preoccupata perché aveva provato a chiamare il marito, che lui era a casa, che lui era tornato, che era andato nell'ufficio di Davide Rossi, che aveva visto la finestra aperta, che guardando giù e quindi ha... Le ha detto se aveva provato a contattarlo lui prima di Davide Rossi lui stesso, cioè Filippone, cioè nel senso è andato direttamente, ha fatto una telefonata... Si ricorda di come parlavate, cioè anche della sensazione un po' che ha avuto, no? Due amici di una persona che muore, c'ha qualche particolare in più che le ha detto il dottor Filippone, che secondo lei adesso le può venire in mente? No, mi ricordo che mi ha detto che anche lui, lui aveva molta più confidenza, che stava male, che era molto dispiaciuto del... No, però dico un po' della dinamica di quando lui non ha aperto la porta, o di quando è stato chiamato, perché il dottor Filippone? Lei è sicura che... Lei ha parlato con questo il dottor Filippone e anche con la dottoressa Tognazzi, che la dottoressa Tognazzi gli aveva detto di andare in ufficio, lei è sicura di questo? Sì, sì, me l'ha detto lei la mattina dopo che aveva chiesto a Filippone di andare. Aveva chiesto a Filippone di andare. Non le risulta che Filippone, quando era andato già la dottoressa Orlandi, cioè la figlia di Tognazzi, che gli dice alla moglie, falla aspettare che sto arrivando, questo lei lo sapeva oppure no? Falla aspettare chi? La figlia Orlandi, stava già sotto la banca, stava per salire, ma Filippone sentendosi con la dottoressa, dice falla attendere che sto arrivando, questo gliel'ha detto oppure no? No, però credo che sia normale, nel senso che quella è una banca, non è che ora che la figlia fosse andata lì, gli avessero chiesto un documento per farla, o comunque avessero chiesto chi era, lui avrà detto sto arrivando saliamo insieme. Ho capito. Non è normale che di solito i figli entrino nell'azienda, avrei fatto anch'io così con mia figlia, avrei detto aspetta un attimo che saliamo insieme, è un'azienda. Ok, quindi gli ha detto sia la donnazzi che il Filippone che la moglie aveva chiesto a lui di andare, ho capito. Lei su quel posto ha visto anche altre persone che conosceva, ci può fare qualche nome, che lavorava magari in banca, anche nel settore della comunicazione sia interna che esterna, si ricorda qualche fatto particolare? No. Il dottor Roberto Rossi, lei lo vide quella sera? Sì, forse sì, non sono sicura, non sono sicura. Non vi siete scambiati nessuna parola con il dottor Roberto Rossi? Può essere, sono stati giorni che non so se, sicuramente, non lo so, non me lo ricordo. Non se lo ricorda se, lei era, diciamo che gestiva un po' anche il personale, giusto, della comunicazione interna, lei li conosceva un po', diciamo. Si ricorda se il dottor Roberto Rossi era in malattia, quella si dice, perché non veniva dal lavoro in quei giorni in banca? Diciamo che il dottor Roberto Rossi ne ha fatta talmente tanta di malattia che non mi ricordo se in quel periodo, nel senso che lui aveva una situazione particolare, aveva 104 per la mamma, capitava di avere magari periodi di malattia, quindi non lo so. Quindi lei non si ricorda se il dottor Roberto Rossi si è avvicinato e gli ha dato la motivazione perché stava là, che era in malattia, cose così, se la ricorda questa discussione? Ma l'ha avuta o non si ricorda? No, veramente non me lo ricordo. Non se lo ricorda, no. Ah, quindi però, ecco giustamente. Allora le faccio anche un'altra domanda, diciamo un po'. Lei asserisce che il dottor Davide Rossi aveva paura di essere licenziato? Per perdere il lavoro, non di essere licenziato, di perdere il lavoro. Allora me la spieghi perché sennò ti perderebbe. Davide Rossi era molto preoccupato che la perquisizione portasse a qualcosa per cui lui sarebbe stato arrestato e di conseguenza avrebbe perso il lavoro. Ah, in questo senso, cioè perché veniva arrestato e quindi perdere il lavoro. Ok, ma le ha detto perché secondo lui sarebbe stato arrestato? Cioè, lei ha detto che l'ha visto diverse volte, no? Il 19 era un martedì, quando purtroppo cade da quella finestra, da una finestra, era mercoledì. Era stato pure un mare in ferie, sono stati sabato e domenica, quattro giorni o cinque che lei non lo vedeva. Quando ha avuto modo di parlare con Davide Rossi, noi abbiamo ovviamente tutti tabulati, anche quindi ci facciamo un po' di spostamento e di lavoro, sia a casa oppure no. Lei dice che aveva paura di essere arrestato, ma le ha detto il motivo del perché? No, sicuramente il fatto che Mussari fosse stato arrestato era una cosa che l'aveva... Mussari era stato arrestato? Arrestato, era successo tutto il casino, era indagato scusi, era probabilmente una cosa che aveva ancora acquito, no? Comunque non me l'ha detto. No, gliel'ha detto, cioè aveva paura, però non l'ha fatto mai capire del perché, cioè che cosa... Quando lei ha fatto la battuta, l'ha detto prima, che c'avevi in questi computer, rifare della madre, della madre. Lui in questo modo, poi come ribattuta, come va, non ha mai accennato a qualcosa che le ha indicato che potesse portargli questa paura. No, io credo che... no, no. No, io credo che... Però un po' di vicende erano successe, abbiamo iniziato a indagare il suo amministratore delegato su un po' di faccende, magari pensava a quelle, non lo so, però non lo so. Sicuramente l'indagine su Mussari è stato un pochino un elemento che l'avrà turbato, no? Beh, io faccio una domanda, probabilmente me la faccio anche da solo, sarei stato turbato pure io, se uno mi indaga sono turbato. Anche lei sarebbe stata turbata. Perché Davide Rossi non doveva essere turbato? Cioè, forse tutti quanti saremmo stati turbati, no? Tutti... e questo... anche nel ragionarci adesso, no? Siamo alla commissione d'inchiesta. Secondo lei porta un suicidio, un turbamento di una perquisizione? Cioè, perché Davide Rossi, se lo conosceva, lui avrebbe dovuto fare questo gesto estremo, mentre gli altri, poi, voglio dire, non l'hanno fatto? Ecco, cioè, è raro, è un'unica che succede sempre, indagini sono tante in Italia, perché lei ha questa sensazione, se ce l'ha ovviamente, anzi, prima se ce l'ha questa sensazione, lui avrebbe fatto un gesto estremo. Beh, allora, io non ho mai parlato con Mussari, quindi non so come... No, no, di... No, però lei mi sta dicendo perché gli altri non l'hanno fatto, io non ho mai parlato con Mussari, non so lo stato psicologico... Gli altri in genere, diciamo, indagini in genere. No, ok, agli altri, quindi io... gli altri non lo so perché non gli ho parlato, qualunque esse siano. Io quello che le dico, che la sua... dal mio punto di vista, però, voglio dire, immagino che ne avrete sentiti tante di persone, quindi se sono solo io, va bene, non era la preoccupazione. Se una persona arriva a dirti che io vado a correre, poi torno in casa perché ho paura che mi arrestano, se una persona ti dice non vado più alla miata perché ho paura che mi arrestano, non mi muovo di casa perché comunque poi... eccetera, evidentemente è una cosa... è un disagio molto, molto, molto più forte. Quindi il suo era un disagio molto... non era la preoccupazione, no? Perché la preoccupazione ci sta. Dopodiché, diciamo che la... quindi per... dal mio punto di vista, rispetto a quello che lui comunicava, c'era comunque una... una preoccupazione... qualcosa di più di una preoccupazione. La sua vita era condizionata dall'idea che lo arrestassero, che comunque gli potesse succedere qualcosa legato all'ispezione arrestato. Sì, sì, l'abbiamo sentito da tanti, ci sono tanti atti, no? Però volevo capire se con lei ha fatto un passo in più nel dirlo anche perché, perché poi lo dice in tante, però... Perché lei ha letto questi famosi bigliettini dei fini di tre lettere che parlano... Cioè, li ha letti, cioè ha avuto modo, si ricorda il contenuto... I bigliettini che poi sono stati trovati in ufficio... No. I bigliettini di addio che lui avrebbe scritto alla moglie. Ah, ok. Vabbè, se non l'ha letto allora. E... una piccola cosa. Lei quando arriva... Un attimo mi mette un flash sulle domande di prima, mi perdoni. Però è essenziale. Viene da Montanini, quindi arriva da banchi di sopra, dalla parte di sopra, quindi sulla destra della banca, guardando l'acchio di spalle, e arriva e trova l'adombulanza a piazza Salimbeni. C'erano... là c'erano dei poliziotti, dei carabinieri, del... Sai che non mi ricordo. Ok. E... va bene. Lei... Vediamo un po'. Quando arriva un amministratore delegato nuovo, con la sua esperienza che ha avuto, ha cambiato molti lavori, però sembra di molto rilievo, generalmente succede che prendono anche una squadra di fiducia, voglio dire, come era successo con Mussari e... come si chiama... e il dottor Davide Rossi. Cioè, succede, voglio dire, che nelle grandi società, in questo caso banche, le persone portano un po' uomini di fiducia anche nella comunicazione. Lei pensava che... cioè, ha parlato con Davide Rossi, pensava che sarebbe stato, diciamo, confermato oppure no? Cioè, ecco, cioè, nel senso, è normale, no, che puoi cambiare o ridimensionare un lavoro quando c'è un cambio? Beh, ma credo che le priorità di Viola, con tutto rispetto, non è che fossero la comunicazione. Arrivava in una banca dove Banca d'Italia aveva rappresentato una situazione catastrofica, dove erano state, come dire, fatte cose abbastanza preoccupanti dal punto di vista del business. sapeva che avrebbe dovuto affrontare un piano di taglio dei costi. Sì. E quindi credo che lui, certo che cambia la squadra, delle funzioni abilitanti al nuovo percorso. Il percorso della banca di Montepaschi, prima, che lei di Siena lo conosce meglio di me, era sicuramente un posto dove probabilmente le funzioni legate alla comunicazione, alla sponsorizzazione, erano più centrali per il ruolo che la banca aveva avuto, diciamo, per la città e anche per questo paese. Purtroppo noi siamo arrivati in una fase dove avevamo poco da dare alla città, dovevamo anche un po' tagliare. Quindi Viola cambia il CFO, cambia Ilaria Dallariva, cambia il CIO, che è per chi non è addetto ai lavori e tutto quello che deve gestire l'organizzazione, la chiusura delle filiali, tutta questa cosa qui. Giustamente la comunicazione, da una parte, ha una grande preoccupazione, deve fare un piano industriale, Viola arriva a fine gennaio, a giugno c'è un piano industriale, perché la banca non aveva più liquidità, quindi stiamo parlando di una situazione estrema. Quindi Viola cambia quelli che deve cambiare, il mondo lo sa bene anche lei, perché se qua evidentemente lo conosce, sa benissimo che esistono delle informazioni, un network, Davide Rossi non era uno sconosciuto, Davide Rossi era conosciuto in tantissimi ambienti, Profumo stava in ABI, Davide Rossi bazzicava l'ABI, tutta una serie di cose, come dire, quindi il network di conoscenze, immagino, io sono arrivato a sei mesi dopo, quindi il problema era già risolto, immagino che si saranno informati, Mussari era presidente dell'ABI, Profumo era l'amministratore delegato di Unicredito, credito, credo che ci fossero anche delle relazioni, per cui se chiedo a un mio collega, com'è questa persona, mi dice che è brava, poi lo chiedo a un altro, poi lo chiede... Cioè, quindi lei mi sta dicendo che se il Dottor Rossi avesse perso il lavoro, non era proprio impossibile trovarne un altro, diciamo, da questo punto di vista? Beh... Era comunque rispettato oppure no? Nel 2012 sì, ma quando è venuto fuori tutto il casino, l'ispezione, stiamo parlando del capo della comunicazione, e tutto il casino, diciamo, purtroppo che lo legava, di cui sicuramente lui non c'entrava niente, alle faccende di Mussari e tutto quanto, e all'effetto mediatico che c'era sulla banca, Nomura, Santorini, tutta sta roba aveva delle giustissime preoccupazioni, perché avrebbe avuto molta difficoltà a trovarlo. E lei sa se dal 19 febbraio, perché ha parlato con Rossi, perciò mi permetto di chiederlo, sa se lui dal 19 febbraio aveva provato ad aggiornare, a modificare il suo curriculum, o le ha detto queste cose qua, se stava anche cercando di vedere, di trovare un altro... Io facevo il direttore del personale, uno non va a dire al direttore del personale... Ma perché gli va a dire che aveva paura, eccetera, eccetera, glielo deve dire per forza, non ho capito. Beh, io sono il direttore del personale, mi occupo delle persone, un mio collega ha subito un momento così, viene da me, mi dice, Laria sono preoccupato che mi arrestano, sono preoccupato di perdere il lavoro, ho un mutuo impegnante, forte, perché l'aveva appena presa la casa, Antonella non lavora, ha una ragazzina che va all'università, sono preoccupato per la mia immagine su Siena, perché sono tutti i giorni... Ma questo glielo ha detto il dottor Rossi? Sì, certo, non è che mi diceva che... E lei ha parlato anche con il dottor Biolo, con il dottor Profumo di questo? Con Viola gli ho detto che era sicuramente molto preoccupato, perché... Sono sicura che l'ha detto, sono sicura perché ne abbiamo parlato, l'ha detto anche a lui che era preoccupato sul lavoro, perché anche lui ha cercato... Però l'avete confortato, no? No, io leggo gli atti, gli avete detto che non erano in legato... io l'abbiamo... Evidentemente non abbastanza, non lo so come dire, no? Ah, ok. Perché questo è il mio grande cruccio, forse non abbastanza. Ok. E non avete mai pensato di dargli un supporto psicologico della banca, curiosità? Gli abbiamo dato quello che la banca... La banca non è un ente che può attivare uno psicologo o uno psichiatra, la banca può attivare... Il massimo che può fare è attivare la persona che ha delle competenze, che è un coach che può fare questa cosa... E che competenza aveva questo coach, mi perdoni? È una persona che fa attività di lavorare, allenare le potenziali delle persone, capirne i momenti, le cose... No, dimmi, dica, cioè di capirne? Quello che fa un normale coach in tutte le aziende, un allenatore del... cioè, gli obiettivi di ascolto... Certamente, io almeno da quello costruito è per portare meglio... cioè, risultati lavorativi, mica psicologici... No, 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 c'è anche tutta... c'è gente che lo usa anche per aspetti personali, per condividere... L'ha udita, la coach? L'avrete vista, no? Sì, l'abbiamo udita, non sappiamo che è qui cosa faceva. È stata definita dal dottor Vidello e dal Tottor Palumbo in una lettera unita tra tribunale e procura, come psicologa, non era psicologa, cioè, nel senso, perché doveva... visto che non è mai stata psicologa, voglio dire, doveva portare anche un supporto psicologico, secondo lei, la dottoressa... la signora Ciani. Il coach viene dato alle persone da una parte per lavorare sui propri obiettivi e dall'altra parte anche per avere all'interno dell'azienda un canale d'ascolto rispetto alle problemi... siccome la persona non è scendibile, lei mi insegna, no? Tra professionista e vita privata, quindi nel momento in cui uno ritiene e quindi ci può lavorare anche sugli aspetti personali, sulle sue paure e le sue preoccupazioni. Questo è stato fatto. Questo è stato fatto. Quindi voi, diciamo, avete messo il dottor Davide Rossi in questo programma, perché avevate questo sentore, e quindi a questo punto avete contattato la coach... La coach, ma l'ho detto prima, la coach era in azienda, disponibile e lavorava con le persone. Quando Davide, mi sembra, andò anche da Viola a manifestare tutte... che non è normalissimo, non so se lei conosce una dimanica di un'azienda, non è che uno vada all'amministratore delegato e dice sono preoccupato, cioè di solito... Quindi evidentemente o il loro rapporto o la forte preoccupazione di Davide ha fatto sì che andasse anche da lui a diglielo e quindi lui a un certo punto ha detto proviamo a dargli questa persona... Ok, quindi avete la deciso su questo. Il sedi di mattina sa che il dottor Rossi ebbe l'incontro con la signora Ciani la mattina, purtroppo, di quel... Ah, bene, adesso che me l'ha detto, sì, me lo ricordo. E come mai, se lo ricordo adesso che glielo ho detto, cioè nel senso perché ha parlato con la Ciani... No, perché era venuto fuori... Io avevo a Siena, eh. Sì, sì, era venuto fuori, mi perdono. Era venuto fuori a tutte le parti, nelle varie cose, giornali, forse me l'hanno anche chiesto, non me lo ricordo più. Quindi non si ricorda se il sei poi finito quell'incontro, lei ha parlato con la Ciani, la signora Ciani. No, non me lo ricordo. Ok, quindi non è che l'ha avvertita di qualcosa... Non me lo ricordo. Poi ne avete avuto modo di... Lei ha risposto che sarebbe stato neanche tenuto logico? Infatti, però, siccome continua a chiedermelo... Ok, quindi, va bene. E mi faccia capire, lei quella sera fa delle telefonate, oltre ad averle ricevute, e si ricorda chi ha chiamato, oltre, voglio dire, forse alla moglie, al fratello, adesso approfondiamo un attimo, ma... Sicuramente mia figlia. La figlia? Mia figlia, sì. Ok, poi? Ha chiamato qualcun altro, l'ha avvertito qualcuno? Lo mi ricordo. Cioè, il dottor Fanti l'ha chiamato lei, o l'ha visto soltanto arrivare? Non me lo ricordo. Non se lo ricorda. E... Ma penso che ci sia tutto scritto da qualche parte, sta roba, o no? No, io faccio le domande, cioè nel senso... No, nel senso che... Mi sembra brutto rispondere, non mi ricordo, però quello che c'è scritto è sicuramente quello che è stato, perché allora me lo ricordavo, io adesso dopo nove anni non me lo ricordo. Ah, in questo senso, ok. Però non c'è scritto da nessuna parte che lei ha chiamato la moglie, il fratello, o uno dei due fratelli. Come mai... Cioè, lei dà la notizia a uno di questi familiari. Perché si ricorda questo aspetto? Cioè, nel senso... Cioè, che cosa le fa venire? Me l'ha detto lei, no? Ma in che senso cosa... Lei ha chiamato e dice non lo sapeva. Chi non lo sapeva di questi familiari? Mi sembra la moglie che avessi chiamato. Allora... O la moglie o il fratello. Ma non me lo ricordo. Diciamo che i fratelli... Ranieri viene avvertito dalla moglie e poi Ranieri... Allora ha chiamato la moglie. Ha chiamato la moglie. E se la moglie invece... Noi abbiamo un'altra versione, ecco. La moglie dice, almeno quello che dice Filippone, sono agli atti. Contemporaneamente, quando va via la Carolina Orlandi dall'ufficio, perché lui la manda, diciamo, dice vai a casa, cioè, lui può chiamare il portiere delle sue dichiarazioni, dice contemporaneamente sento la dottoressa Tognazzi. Cioè, la Tognazzi non ci ha detto che è stata avvertita da lei. A me sembra così, però, guarda... Io non me lo ricordo. Cioè, è importante, no? Cioè, nel senso di sapere che... Guardi, adesso vado, andrò a ripensarci... Andrò, non lo so, cercherò di ripensarci. Non mi ricordo. A me sembra di aver fatto una chiamata a qualcuno della famiglia, però... Però, quello che si... Ok. Non lo so. Dovrei andare a vedere nella versione che ho dato in tribunale. Sicuramente lì da qualche parte l'ho detto. Ah, e... Però si accorge che chi era l'interlocutore, ad essere andrò a vedere, eccetera, ancora non lo sapeva. Ecco, questa cosa, se la ricordo, è che l'ha detto prima. Cioè, lasciamo stare, ma magari a che ora, piuttosto che chi ha chiamato. Però lei ha detto che ancora non lo sapeva. Quindi lei ha chiamato qualcuno della famiglia che in quel momento ancora non lo sapeva. Lei ha telefonato anche il dottor Montalbano, curiosità. Se lo ricorda questo? Può essere, eravamo colleghi, quindi sì, lui lo conosceva, Davide, quindi può essere che l'ho chiamato. Ok, io ho quasi finito. Ah, sì, sicuramente l'ho chiamato, perché... Sì, sì, l'ho chiamato. Perché si ricorda che l'ha chiamato, mi perdoni? Perché poi mi ricordo di averlo visto lì nella serata. Io sto sempre un attimo più preciso, lì sarebbe sempre via dei rossi? Sì, no, 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 perché poi forse sono andati in banca, o comunque lui andava in banca, sì, comunque l'ho chiamato, sì, non mi ricordo. Ok, poi lei l'ha incontrato, cioè lei è ritornata in banca? Non mi ricordo. Sì, mi dico una cosa, voi avete avuto una riunione, cioè lei il 7 di marzo mi ha detto che è andata a casa della dottoressa Tognazzi, il giorno... La sabato, era un sabato, la mattina dopo, non mi ricordo. Era mercoledì 6. E la mattina dopo, due mattine dopo, sono andata da lei, sì. La mattina dopo è giovedì 7. Eh, allora sarà giovedì 7. Comunque la mattina dopo è andata, è andata di mattina presto, metà giornata, perché noi abbiamo che lei stava anche in una riunione, è vero che stava in una riunione a Monte di Passo. Non mi ricordo, guarda, bisogna prendere i verbali che ho fatto, è depositato in tribunale, c'è scritto tutto, ci sono i giorni, non mi ricordo qual è andata. Comunque sono andata a casa della famiglia, se è il giovedì o il sabato o il giorno dopo, non me lo ricordo. È interessante quello che dice, però il Presidente prima l'ha chiesto in quali atti lei è stata sentita, perché se lei mi dice che negli atti c'è che è andata a casa della Tognazzi, il 7 di mattina, e allora Presidente ci sono altri atti, perché a noi questi non li abbiamo. No, gli atti, quando sono andati in tribunale a Siena ci sarà, se è stato depositato qualcosa. Bene, lei quindi in tribunale a Siena ha detto che la mattina del 7 era andata a casa della... No, no, ha detto, il tribunale a Siena avrò detto esattamente il giorno giusto, oggi, sono passati nove anni, avrei detto di essere andata il giorno dopo, sarò andata due giorni dopo. No, no, va bene, ma io non voglio mettermi sul giorno, cioè voglio capire, lei però ha detto agli atti che comunque era andata a casa della Tognazzi. Sì, questo è assolutamente. Questo l'ha detto assolutamente. Sì. E ha avuto anche una riunione del 7 di marzo, la mattina, con il dottor Profumo, il dottor Viola... Non me lo ricordo. Ah, è perché c'è stata una riunione in cui tutto il gruppo dirigente si è trovato... Perché se dico, mi sembra di sì, poi mi chiede cosa avete parlato, faccio prima dire che non me lo ricordo perché non me lo ricordo. Però capisce, cioè nel senso, lei dice, sa che ha fatto delle affermazioni molto simili ad altri, no? L'ha detto pure lei prima, no? Ha detto ma ci sono altre affermazioni simili. Il fatto è che molti di questi che fanno queste affermazioni, se non tutti, stavano in una riunione della mattina dopo, a noi c'è stato detto che lei era presente, addirittura c'ha detto anche la signora Ciani, cioè c'era, almeno da quello che dice c'era Mingrone, e ce lo dice Viola ovviamente, cioè nel senso, eh, quindi se in una riunione che viene fatta dove, io immagino, voglio dire, un collega che muore, cioè un dolore enorme da parte dei colleghi, e si esprime ma che cosa era successo, l'ultimo periodo l'ho visto così, poi quando venite ai sentiti, ma non è che il vostro pensiero è stato, come posso dire, un po' condizionato dai giornali che uscivano, dal fatto che già avevano detto tutti che erano suicidio dalle 11 di sera, forse pure prima, e dal fatto che avete fatto una riunione, cioè, ma in buona fede, sia chiaro, non sto dicendo vi siete messi d'accordo, non mi permettere mai, bene farlo sapere, però dicevo, magari in buona fede avete espresso le vostre sensazioni, e poi andate a fare delle dichiarazioni ovviamente dai PM, e magari dite quello che sentite, e magari il vostro pensiero è stato un po' condizionato da tutte quelle informazioni, quindi risultano queste dichiarazioni molto simili, però ci sono stati degli incontri primi tra di voi, ecco, cioè secondo lei è possibile che questo sia avvenuto, oppure no? Secondo me è un modo bizzarro il suo di rappresentarlo, perché è un po' bizzarro come lettura, nel senso che uno dice, di solito non siamo qui, quindi qua siamo per altre cose, no, ma di solito quando uno deve prendere una decisione su, che ne so, e in tanti dicono, tanti insegnanti dicono che non ha studiato, non è che gli insegnanti si condizionano fra di loro, cioè un giudizio viene messo sulla pluralità di cose che si avvicinano, se lei preferisce dire che tanti di noi si sono condizionati perché hanno fatto una riunione, è questa una sua valutazione. Io l'ho chiesto a lei, non è una mia valutazione, ho fatto una domanda. Io ero in banca da giugno, ok? Ho quello che ho raccontato e quello che è stato detto a me e è successo a me, quindi rispondo di me. Non sono una persona condizionabile, se no non farei il lavoro che faccio, quindi sono una persona che ha un libero arbitrio e si basa sulle sue esperienze. Le ho detto che Davide lo conoscevo, il mio cane sono andato a prenderlo a Murlo, visto che di lì è con la moglie, quindi evidentemente un po' di rapporto c'era perché uno non va col primo sconosciuto. Sua moglie è venuta a curarmi la figlia, quindi io non credo di farmi influenzare magari da altri che non lo so cosa hanno detto. Io dico che quello che le ho detto è quello che era. Dopodiché, se era preoccupato, io le dico che queste sono le cose che lui mi ha detto. Mi chiamava dieci volte al giorno per dirmene, no. Però sicuramente è stato qualcosa di ricorrente che è incrementato nel tempo, ok? Punto. Però io quello che sia chiaro, perché arriviamo a Gagliatti, io non ho nessuna idea, eccetera, eccetera. Io l'ho fatto la domanda se lei credeva di essere stato condizionato. Se mi risponde di no, dove la metteva a verbale che lei dice di no. Però io non è che sto dicendo che per me era stato condizionato, questo voglio che sia chiaro e che sia giato. E un'ultima cosa, lei quindi in tribunale ha detto anche della riunione che si è verificata il 7 oppure no? L'ha detto che è andata a casa della Dugnazzi, non si ricorda i giorni magari, diciamo i particolari, però avrebbe detto che era andata a casa della dottoressa Dugnazzi qualche giorno dopo, il giorno dopo, e anche della riunione ha parlato oppure no? Non me lo ricordo. Ah, non se lo ricordo, sono molti. Va bene, Presidente. Allora, grazie, grazie dottoressa. Onorevole Bisa. Sì, Presidente, grazie. Velocemente, due domande. Forse a me magari è sfuggito, tra le tante cose state dette, ma lei non si ricorda l'orario in cui viola la chiamata, per dirle indicativamente, della morte di Davide Rossi? L'orario che era tra le otto e le otto e mezza, non me lo ricordo. Quando lei telefona alla moglie, che poi ci dice, non mi ricordo se era effettivamente la moglie o il fratello, ma la persona che ha ricevuto la sua telefonata non sapeva della morte di Davide Rossi? La sua percezione? Cioè, è stata lei a dare la notizia? A me sembrava di sì, però... Grazie, Presidente. Non lo recendi. Anche Onore Cennie di Siena, quindi conosce i luoghi. Ci conosciamo. Intanto la ringrazio per essere qui e per lo sforzo che sta facendo di memoria, ma credo anche emotivo, insomma, visto la vicinanza con Davide Rossi. Ma ovviamente noi stiamo cercando il più possibile di capire alcune cose che non abbiamo già trovato nelle carte e anche negli atti che sono a disposizione della Commissione. Parto da, seguendo un po' la scia, diciamo, delle cose che lei ci ha detto, partendo proprio dal prima, da questa situazione, questa condizione che Davide Rossi viveva e che ha trasmesso anche a lei nella interlocuzione che avete visto. Insisto su un punto su cui lei è già tornata, lo hanno fatto anche dei colleghi, ma che per noi è uno dei punti centrali. Lei stessa ha confermato che c'era assoluta stima da parte dei vertici della banca nei confronti di Davide Rossi. Del resto lo avevano confermato, nonostante fosse persona molto vicina ai vertici precedenti della banca, ma nonostante questo Davide Rossi aveva questa sensazione, cioè che vista la situazione, vista la perquisizione, questa situazione potesse in qualche modo ripercuotersi anche nella sua perdita del lavoro, forse in parte per la paura di essere arrestato, ma forse anche perché poteva venire meno la fiducia, diciamo, da parte dei vertici. e alla luce anche delle cose che lei ci ha detto, cioè lei ha parlato quasi di un'ossessione ripetitiva di Davide su questa paura di essere arrestata. Lei si era accorta che faceva anche degli atti di autolesionismo e che aveva dei tagli sulle braccia? Sì, l'avevo visto. Poi ne vorrei parlare in secretata. Scusi. Perfetto, magari quindi ci torniamo dopo. Alla luce di questo, lei ha fatto riferimento anche a come lui vivesse male ciò che scrivevano alcuni blogger, alcuni blog della città. Che lei sappia, o diciamo se questo è stato oggetto a volte di vostre conversazioni, questo riguardava più il suo legame con i vertici della banca o gli scenari che stavano girando su festini, presunte partecipazioni a festini di Davide Rossi, eccetera? È difficile scendere. La mia percezione, però qua veramente è più una cosa, se dovessi tradurre, era tutto ciò che stava minando la sua persona. Forse all'epoca del decesso, non è che girava? Girava anche quella? Nel senso che mi pare, almeno per quanto riguarda gli atti della Commissione, è emerso in una fase successiva. No, no, dei festini non girava, però c'erano magari anche aspetti legati più ai suoi rapporti con la città che non solo a Mussari. Sicuramente non è stata bella la, come dire, non è stata, come dire, mi resta mi vede la parola, cioè non è stata leggera la stampa dei blog e la stampa nei suoi confronti. Questo va detto, cioè, insomma, se definire, quindi... Tagliati, cioè, è una cosa... Però, ecco, lei è di Siena, cioè se voi andate a prendere quello che scrivevano su di me nei blog allora e quello che scrivano su di lui, non è che c'è tanta differenza. Però io non avevo un passato, un ruolo e un mondo da... Era stata scelta da fuori, proprio per fare un lavoro chirurgico e occorreva qualcuno da fuori per poterlo fare, evidentemente, mentre... Un'altra domanda, in parte gli ha già chiesto qualcosa anche il collega Migliorino prima, ma... Lei ha mai saputo o ha avuto la sensazione che lui potesse avere timore o che avesse subito minacce da parte di qualcuno? A me non ne ha mai mai proprio parlato. Non... E poi le chiedo un'altra cosa. Non so, il suo ufficio immagino che fosse in un'altra area rispetto a quella di Davide Rossi. Lei pensa che fosse possibile che alcune persone potessero entrare e raggiungere l'ufficio di Davide Rossi, visto anche che comunque c'era del personale al centralino e così via. Allora, pensare che uno riuscisse a entrare lì alle 8 di sera, sconosciuto, senza essere visto, la vedo molto difficile. Però, immaginiamo che quello del centralino fumasse fosse andato un attimo... Allora non c'erano i tornelli come abbiamo messi dopo. Fui fosse distratto... Comunque ha attraversato un pezzo della banca, è entrato in un ufficio, ha fatto un atto come quello che... Tutto in silenzio. Nel senso che nessuno... Non è che la banca era completamente vuota. Cioè... Questo che voglio dire. Quindi, se è successo, è successo molto, come dire, ho vattato nei rumori da questo punto di vista, perché non era vuota la banca in generale, piani sopra, piani sotto, di fianco, di sopra. Quindi... E poi in tutto questo, silentemente, nel pieno silenzio, è uscito. E quindi quell'altro si è rigirato di nuovo e non ha visto nessuno. Lei ha detto che è stata avvisata da Viola, e sostanzialmente le parole che sono state usate per avvisarla era che Davide si era ucciso, sostanzialmente. Esattamente. A me al telefono non usò quella parola. Non mi disse. Ok. Mi disse... Cosa le disse? Si ricorda? Vai, scendi, vai, vai in banca, scendi. E' successa una cosa gravissima a Davide. Ok. Parla con Mingrone, una cosa così. Non mi disse... Non direttamente. E quindi quando lei arrivò lì, diciamo... No, Mingrone, incontro Mingrone che mi dice... Certo. Che c'è il corpo in strada e immagino che in quel momento tutti parlassero solo di suicidio. Assolutamente. Nessuno in quel momento parlava di altro. Subito. L'ultima cosa invece riguarda il dopo. Lei appunto ci ha detto che, diciamo, dopo la vicenda c'è un primo momento di incontro con la famiglia o con l'avvocato Lepri. Non ho ben capito. Forse con l'avvocato Lepri. C'è questo fatto che adesso per scopo devo riuscire a ricostruire di quando sono andata. Cioè ho presente tutto, ho preso tre di scrivervi, la casa minuto per minuto, la moglie che era lei, tutto. Ma non mi ricordo veramente se l'ho fatto il giorno dopo o veramente il sabato, due giorni dopo. forse l'ho fatto il sabato, non lo so. E Lepri, che era un amico di Davide, fu la persona che si interfacciò con noi in una fase iniziale per capire un po' come tutta la situazione. Il quadro che si delineava anche a sostegno della situazione economica, immagino, della famiglia. E poi appunto ci parla di questa linea che cambia con il cambio dell'avvocato, quindi con l'avvocato Goracci, se ho ben capito. E dopo l'offerta che la banca le fa, che fa la famiglia tramite la sua persona ai vertici della banca, la prima, diciamo, la prima, chiamiamola offerta, nel senso, il mettere insieme le condizioni che la banca dava a tutte le persone decedute e le varie cose le abbiamo fatto con Lepri, il quale le ha raccolte, le ha spiegate, inizialmente sembrava che andassero bene, poi dopo ha preso tutta un'altra piega e Lepri si è sfilato, non gli hanno detto di non andare. Ma lei come spiega questo cambio così forte della linea della famiglia, visto anche che voi avevate un rapporto, un'interlocuzione che durava da qualche tempo? Avranno, cioè non so come dire, forse ci sono delle cose che io non so, per cui c'era l'idea di una risarcire, non lo so, non lo so, questo è difficile da capire, è difficile da… ripeto anche perché l'avvocato Lepri non era un avvocato che aveva scelto, era l'avvocato di famiglia, era la persona con cui, cioè che li conosceva bene, aveva fatto le vacanze con loro, cioè quindi avevano fatto il viaggio di nozze, cioè quando si sono stati insieme, quindi era una persona vicina alla famiglia, non era uno che la banca ha detto prendete Lepri, capito? Quindi evidentemente c'era qualcosa che non… Lei dottoressa pensa che la banca abbia fatto tutto il possibile per supportare la famiglia dopo la morte di Davide Rossi? Direi di sì. E ha più avuto alcun contatto con la famiglia successivamente lei? Purtroppo no, nel senso che poi dopo quel fatto e così, insomma evidentemente c'è stato una freddezza derivante dal fatto che probabilmente… Ecco, quando voi avete incontrato Goracci che vi ha mostrato queste mail, immagino che fossero le mail con cui si testimoniava l'interlocuzione che c'è stata fra Davide Rossi e Viola. Esatto. Viola ovviamente non le aveva mai viste prima quelle mail. Questo non lo so se a quell'epoca, perché non è… forse… non lo so, non mi ricordo perché non è avvenuto… dovrei ripercorrere nel tempo la… quando è entrato in gioco Gregoraccio. Lei non si ricorda esattamente quale mail di queste che ha fatto… Ah sì, sì, certo, me le ha fatte vedere, erano le mail in cui Davide diceva… Quindi alcune di queste Viola probabilmente le aveva viste perché le avevano aperte nel suo ufficio. Lì nel… lì lui ha detto che aveva queste mail eccetera eccetera, in cui diceva… però lì Viola non ha detto se le aveva dette o non le aveva dette. È stata una roba brutta, cioè siamo usciti abbastanza schifati, eh. Cioè. Va beh, la ringrazio, io non ho… Alto da chiedere, grazie. Della parte pubblica ci sono altre domande? Allora passiamo nella parte segretata. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. A questo punto noi dichiariamo conclusa l'audizione e ringraziamo la dottoressa Dallariva della cortesia e della pazienza con cui ha risposto alle nostre domande e quindi la licenziamo può andare. Grazie. Non dite mai a un direttore del personale la licenziamo. Eh, ma era una battuta, era una battuta cioè che... non me l'avevo preparata e allora diamo corso alla seconda audizione della giornata di Davide di Michele Mencarelli vice ispettore della Polizia altre due sono tra le audizioni di oggi non arrivo in miglioria io nello speech ho come seconda audizione quella di Michele Mencarelli vice ispettore della Polizia di Stato quindi lo facciamo entrare l'ospicio che questo prevede cambia molto prego buonasera si accomodi pure l'ordine del giorno reca l'audizione di Michele Mencarelli vice ispettore della Polizia di Stato che ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione l'audizione si svolge in forma libera di essa sarà redatto un resoconto stenografico che verrà conservato negli uffici della Commissione avverto il nostro ospite che se lo riterrà opportuno qualora ritenga doverci fornire informazioni particolarmente delicate potrà chiedere che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta nell'ambito di un reciproco obbligo di riservatezza io la ringrazio vice ispettore se non sbaglio lei è intervenuto nella stanza di Davide Rossi il giorno 7 di marzo del 2013 e quando fu riacceso il suo computer lei ci ricordi quello che è accaduto quello che ritiene di dirci poi semmai io o altri componenti della Commissione le faremo delle domande per capire meglio cosa è successo in quell'occasione intanto le do la parola ecco allora schiacci il pulsantino rosso e parli vicino ok grazie buonasera a tutti scusate se talvolta sarò un po' titubante perché per le circostanze di tempo ormai di trascorso ricordo che la mattina del giorno dopo del tragico evento eravamo in ufficio assieme ai miei colleghi e fummo chiamati della Polizia Postale della Polizia Postale sì scusi all'epoca facevo ero effettivo presso la sezione Polizia Postale di Siena attualmente invece? attualmente alla Questura di Siena dopo il passaggio di qualifica quindi non è più nella Polizia Postale oggi? attualmente no attualmente no proseguo cosa successe? successe che giunse una telefonata con la quale si richiedeva la nostra presenza chi richiedeva la vostra presenza? allora fu il nostro responsabile che ricevette questa telefonata non saprei dirle da chi ma comunque dalla Procura dalla Procura della Repubblica era una telefonata a me completamente come dire oscura perché non avevo cognizione di quello che era successo la sera prima quindi lei non conosceva Davide Rossi non conoscevo Davide Rossi non conoscevo quello che era la trigicità dell'evento non avevo nozione per me era una giornata normalissima il nostro responsabile ci ha mentre stavamo andando verso la sede del Monte dei Paschi il nostro responsabile ci ha leggermente informato di quello che era accaduto e che dovevamo essere a disposizione dei Procuratori della Repubblica per dare loro una mano in certe attività a noi a quel tempo demandate ricordo che stazionammo su Piazza Matteotti dopo pochi minuti giunsero il Dottor Nastasi il Dottor Marini e il Dottor Grosso i quali ci chiesero di seguirli presso la direzione del Monte dei Paschi che dista poche decine di metri dalla Piazza Matteotti con tutta sincerità ad oggi dovessi ripercorrere il percorso all'interno del Monte dei Paschi non saprei quindi è andato solo quella volta lì? si sono stato forse un'altra o solo un'altra volta per cui lì seguimmo arrivammo davanti a ciò che seppi era l'ufficio del Dottor Rossi e attendemmo le loro istruzioni in merito a quello che dovevamo fare non tardò molto che il Dottor Nastasi ci chiese di analizzare assieme a lui in tempo reale dei supporti informatici che erano presenti all'interno dell'ufficio del Dottor David Rossi in quella circostanza analizzammo ovvero sia effettuammo una preview di alcune pennettine USB che altro non erano che altro non contenevano che dei file multimediali in relazione a programmi pubblicitari per quanto riguarda il Monte dei Paschi attendemmo dopo aver finito questa sorta di preview attendemmo ulteriori istruzioni fino a che non ci fu detto di effettuare l'acquisizione forense dei supporti informatici che erano lì presenti si trattava di un computer fisso e di due computer portatili se non ricordo male vi era anche dei cellulari dei cellulari ancora una volta attendemmo il via prelevammo l'hard disk dal computer del dottor Rossi gli altri gli altri apparati informatici e ci dirigemmo immediatamente come da loro specifica delega o ordine o comunque richiesta di effettuare l'acquisizione forense dei sistemi individuati vi faccio subito una prima domanda avete avuto difficoltà inizialmente ad accedere al computer del dottor Rossi allora per quanto riguarda il computer del dottor david Rossi era ancora acceso e funzionante ma ricordo che c'era una particolarità non non riuscivano a identificare la chiave di accesso per poter accedere al contenuto dei file ovvero sia era protetto da password e nessuno aveva la password pertanto attendiamo diverso tempo fino a quando non ci fu detto ok spengete tutto e acquisite quello che potete acquisire una circostanza che mi ricordo bene è che in quei momenti staccammo il computer dalla rete proprio per rendere come dire influente qualsiasi collegamento con la rete esterna niente continuiamo con le nostre attività e acquisimmo a livello forense questi hard disk e gli altri strumenti elettronici anche con l'aiuto del personale del compartimento che avevano dei software propedeutici per l'acquisizione dei cellulari dopodiché abbiamo consegnato immediatamente la mattina dopo abbiamo consegnato tutto il materiale sia gli originali che le acquisizioni forense effettuate alla segreteria del dottor Natalini se non ricordo male comunque era un pool per cui ci fu dato questo dottor Natalini c'era stato un dottor Nastasi che aveva dato le istruzioni guardi perché il perché non lo so ma ci fu detto che era uguale va bene uguale andava bene uguale perché era un pool di magistrati che cooperavano per cui anche la segreteria del dottor Natalini che in quel momento era lì presente andava bene ci fu detto da chi? ci fu detto dalla segreteria del dottor Marini se non ricordo male però perdonatemi di questa incertezza perché non ho io mi ricordo che l'argomento principale è che il pool che stava indagando era composto da più magistrati per cui il dottor Natalini era in quel momento abilitato a ricevere questi atti di quelle acquisizioni e di quegli apparati e apparati informatici ed elettronici non ne ho più avuto contezza noi come sezione non ne abbiamo più avuto contezza questo è avvenuto il giorno seguente quindi sarebbe il 7 è quello con cui avete iniziato il lavoro esatto e l'8 l'abbiamo o l'8 o il 9 non me ne voglia o l'8 o il 9 l'abbiamo depositati anche perché nel in questo spazio di tempo ci furono recapitati anche altri supporti che avevano sequestrato altre forze di polizia all'interno dell'abitazione del dottor Rossi quindi voi vi siete limitati all'acquisizione forense quindi non li avete consultati letti assolutamente no avevano elaborati niente l'ordinativo o comunque la delega che c'era stata demandata era quella di effettuare immediatamente l'acquisizione forense l'acquisizione forense di tutto il materiale che avevano individuato nell'ufficio e che avevano portato altre forze di polizia quindi non avete rielaborato il materiale che aveva stato cominciato assolutamente no è stato fatto mi perdoni salto a livello temporale è stato fatto nel momento in cui parte del materiale è stato riconsegnato alla famiglia del dottor david rossi e in questo materiale la signora non mi ricordo il nome non me ne volete comunque la cognata del dottor david la cognata del david rossi aveva individuato una particolare aveva lei interagito con l'hard disk e con i dati in esso contenuto aveva individuato una particolare mail con la quale sfortunatamente il dottor david rossi indicava che aveva delle intenzioni tanto per capirsi stasera mi suicido suicido mi suicido scusate e aveva individuato che il mittente era lui ma i destinatari risultavano due persone l'amministratore Viola il dottor Viola ed un'altra persona da quel momento è iniziata una serie di attività su quella particolare mail per capire se effettivamente i destinatari fossero i destinatari fossero state due se la genuità della mail stessa e di questo è stato fatto anche una sentenza c'è stata un'udienza penale sulla quale ho già depositato ma che sono pronto anche a guardi in sintesi la procura ha cercato più volte di farci analizzare no ha cercato ci ha fatto analizzare più volte questa mail per capire il meccanismo dei due destinatari tutte le attività che abbiamo fatto smentivano questa doppia destinazione delle mail fino a quando non grazie all'aiuto della signora che dicevo prima la cognata ci siamo messi un pomeriggio io e l'altro mio collega abbiamo seguito tutti i passi che lei ha fatto e abbiamo individuato praticamente un errore nell'uso di un programma che non era genuino era un software che aveva reperito sulla rete che in qualche maniera traslava i dati in maniera errata cioè trasportava i dati in una maniera congeniale al software di posta elettronica in modo da farli vedere in maniera come il classico esplora risorse tanto per capirsi e questo software traslava male alcuni dati per cui alcuni dati non erano quelli originali e lì abbiamo capito qual era la propria avete concluso che in realtà quella mail era stata indirizzata solo al dottor viola altre cose io non non il migliorino è il nostro esperto informatico non non è il migliorino grazie presidente grazie dottor mancarelli ciao salto e faccio qualche domanda ovviamente sull'informatica sì e perché vorrei capire alcune particolarità e voi quel giorno avete fatto anche delle foto quando siete entrati in quella stanza? Allora, noi no, cioè le foto erano già state fatte dal personale della polizia scientifica. Se qualche cosa abbiamo fatto, abbiamo fatto a livello internox per identificare bene i numeri seriali e quant'altro che poi abbiamo allegato nel verbale delle acquisizioni effettuali. Infatti io mi riferivo un po' a questo. Sì, sì, scusi, allora sì, a quello sì. L'avete fatto nell'ufficio o quando siete arrivati? Voi lavoravate vicino alla stazione? Sì, l'ufficio è quello della stazione. L'abbiamo fatto prima ancora di smontare i vari supporti. Però prima ancora, mica avete smontato in ufficio i supporti, cioè i portatili, faccio un esempio. Quello fisso immagino, ma quello portatili... Quello fisso l'abbiamo smontato nell'ufficio. I portatili ce li siamo proprio portati in ufficio e lì abbiamo fatto la foto del portatile. Provesciato, diciamo, dove si toglieva l'art disco. Prima ancora di aprirlo. Però l'avete fatto in ufficio, cioè non in ufficio dei russi. Allora, su questo mi sento di essere un po' in difetto perché proprio non me lo ricordo. Ce l'avete ancora, quelle foto, curiosità? No, però, sai, se me le avete sulla carta non vedo i metadati, ma se le avete conservate, diciamo, per sapere l'orario, no? Non le abbiamo contenuto. Considerata la criticità dell'evento, abbiamo preferito cercare di essere il più possibile scevri da ogni contaminazione, anche esterna o di qualsiasi natura. Io e il mio collega abbiamo detto, ok, facciamo tutto quello che dobbiamo fare, verbalizziamo, fornendo tutte le informazioni possibili e immaginabili. Quindi non teniamo assolutamente nulla di ciò che potrebbe poi essere frainteso o ritornare male della serie. Non abbiamo più quelle foto, ecco, l'abbiamo cancellata. Ah, non ce l'ha più, ok. No, non ce l'ho più. Cioè non è che rimanevano un po' in zia postale per le foto. No, no, assolutamente. L'abbiamo fatta con i nostri cellulari. Ah, così, una cosa vostra per vedere. Però poi sono state stampate perché l'ho vista. Sono state stampate, sì, quello che mi riferivo è al cellulare, di non tenere assolutamente nulla sui nostri cellulari che potesse in qualche maniera forbiare. Lei è stato avvertito, ma quando siete arrivati nella sede di Piazza Salimbeni, avete atteso, siete entrati, già c'erano le persone dentro, sono state aperte la porta davanti a voi? Volevo capire un attimo com'è. Allora, ad attenderci, siamo andati unitamente ai sostituti che ho detto prima. Ah, quindi insieme? Sì, insieme, dietro, proprio dietro. Loro hanno fatto l'apripista e noi dietro perché proprio io non sapevo nemmeno dove dovevamo andare. Quando siamo arrivati sul posto la porta era chiusa, ma c'era una collega che aveva piantonato la porta tutta la notte. Non della polizia postale, ma della polizia in genere? Sì, della postura. Dopodiché abbiamo atteso fuori dalla porta. Sono entrati i PM e sono intervenute anche altre figure del Monte dei Paschi. Però il Monte dei Paschi è per me un po' macchinoso come struttura a livello di audit, sicurezza e quant'altro. L'unica persona che ricordo essere lì presente era il dottor Leangi, anche perché lo conosco personalmente, il dottor Leangi. Era lì, anche nel momento in cui guardavamo con il dottor Nastasi all'interno dell'ufficio, guardavamo queste chiavette USB. Dove le attaccavate queste chiavette? Al computer che utilizza. Vi siete portati un vostro dispositivo. Un nostro dispositivo. Mi perdoni, lei entra e ha detto che ha preso, cioè c'era un computer fisso e due portatili. Allora, un computer fisso, allora, cerco di far mette locale. Bravo, bravo, perfetto, grazie, gentilissimo. Mette locale è importantissimo. Appena si entrava sulla sinistra c'era un tavolo con delle sedie a modi, come dire, di convivialità all'interno. Tutta a sinistra e sia a sinistra che a destra c'erano due scrivani. Una a sinistra e una a destra, mi pare, c'erano delle scrivanie. Sulla sinistra c'era il computer del dottor Rossi. Il computer portatile era sulla sedia intorno al tavolo. Un computer portatile era sulla sedia? Erano due, ma uno era lì, l'altro non ricordo se era poco più distante, anche perché l'ufficio non era... Cioè, diciamo, un computer stava sulla sedia e un altro stava vicino al fisso, vicino, non lo so, sulla scrivania? Non ricordo, sinceramente non ricordo. Ora ovviamente, sono passati un po' di tempo, certo. Però è molto preciso, anche se alcuni dettagli vengono, non lo so, è normalissimo, ecco, ci mancherebbe. E c'era anche una borsa per computer, erano computer così sfusi, mettiamola così. No, 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 c'era anche la borsa porta computer, ma nella borsa non essendoci alcun oggetto, c'era solo il caricabatterie e basta, abbiamo preso solo il... E dove stava questa borsa? Una delle borse era sulla sedia intorno al tavolo che dicevo. Cioè, quindi c'era sedia, computer, il computer non era nella borsa? No, no, il computer dentro il porta borse, sulla sedia intorno al... Ah, quindi c'era un computer nella borsa, sulla sedia, mi perdono. L'altro non mi ricordo sinceramente, e sulla sinistra c'era il computer del dottor Rossi, che, ripeto, era ancora attivo, perché non vi era la password di accesso. Quindi lei quando entra lo trovi in questa parte qua? Sì, e poi ci siamo subito concentrati... Prego, prego, mi perdoni. No, 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 giustissimo. Ci siamo subito concentrati, perché c'era proprio il dottor Nastasi che sedeva sulla nostra sinistra, che voleva vedere assieme a noi che cosa potevamo individuare in quel momento. Per cui non è che ho perso tempo, fra virgolette, a guardarmi intorno, ma ci siamo concentrati immediatamente su quello che era l'oggetto richiesto. E cioè, quindi con le pennine attaccate al suo computer, e poi sul computer fisso, che gli altri mica sono stati accesi i due portali? No, 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 assolutamente no. Allora, le attività forense si basano su post-mort, scusate la parola, significa a computer acceso o a computer spento. Ah, in questo senso post-morto. In questo senso qua, i computer spenti vanno lasciati spenti, i computer accesi si devono analizzare per quanto è possibile analizzarli nella loro funzionalità e se possibile, altrimenti dobbiamo agire come se fosse un computer spento. Mi faccia capire, se lei, se un computer è acceso, in genere, per mille motivi poi viene spento, oramai deve rimanere spento o si deve riaccendere? No, se è spento deve rimanere spento. Quindi genere? Ah, no, sì, sì, ah, non pensavo, mi perdona, no, perché stavo un attimo. No, allora, se è spento deve rimanere spento. Ora, poi questo ci arriviamo, va bene, ce lo ricordiamo, ci arriviamo, perché non volevo perdere il filo, ma quando l'è entrato, sembra se può fare mentre lo care, erano già stati messi, che non lo so, dei targhettini gialli con delle lettere, avevano fatto attività di ricerca, c'erano gli sportelli aperti di qualcosa, quando lei, se può fare sempre mentre lo care, no? Allora, la scena era, so che era già stata analizzata dalla polizia scientifica, però c'era una gran confusione all'interno, per me c'era una gran confusione, però penso... No, no, interessante, sì, polizio, cioè... Però non ricordo se c'erano delle... Lei perché sapeva che c'erano... Le targhette, quelle numerate... Ecco, quindi non lo so. Non me lo ricordo, ma ripeto, perché appena entrati, un attimo, perché siamo entrati nel momento in cui il dottor Nastasi ci ha chiamato per interagire con quelle chiavette, per cui il tempo di entrare a posizionare il nostro computer, aprirlo, accenderlo e immediatamente lavorare. Allora, vi faccio subito la domanda sulle chiavette. Voi avete guardato l'interno delle chiavette e basta? No, no. Ci avete attaccato una chiavetta e poi? Allora, le chiavette sono state guardate con il software Encase, che dà l'opportunità anche di vedere eventuali file cancellati e quant'altro, in fase di preview. Avrete fatto anche un recovery su queste chiavette? No, non è stato fatto il recovery perché era talmente lampante l'utilizzo che ne era stato fatto. Contenevano o uno o due o tre file multimediali in cui si pubblicizzava la banca Monti dei Paschi. Però mi pare che erano 16 alla fine le chiavette. Sì, sì, erano... Siamo rimasti anche noi un po' piacevolmente colpiti dall'abbondanza, perché era una conca tipo porta frutta, con tutte le chiavette dentro. Però mi faccia capire una piccola cosa. Alcuno dice che c'erano dei materiali fotografici di famiglia, almeno reggendo un po' gli atti possibile. O c'erano solo video di banca? Allora, in quelle chiavette erano quelle color rosso che abbiamo trovato nello studio, solo attività di banca. Nelle chiavette che avevano preso altra forza di polizia a casa del dottor Rossi, c'era un qualche cosa, così come anche nell'hard disk, mi ricordo che c'era qualche cosa che era relativo al dottor... Vita privata del dottor Rossi. Vita privata del dottor Rossi. E mi dica una cosa, quindi ha guardato un po' l'hard disk, almeno le foto se le avete fatto un po' di occhiata. Quando si fa l'acquisizione forense, l'hard disk mostra subito una preview dell'albero di quello che contiene. Certo. Foto famiglia è quello che è apparso subito agli occhi perché era la cosa più leggibile. Foto famiglia e poi ho dato l'input immediatamente al programma di effettuare i file evidence relativi all'acquisizione forense. Avete guardato solo le foto oppure documenti in word? No, no, per foto guardate intendo dire la cartella con foto famiglia. Ah, quindi le concine non avete aperto diciamo. Esatto, assolutamente no. In queste foto si ricorda di famiglia, c'era anche qualcosa dell'ufficio, del punto di lavoro o c'erano soltanto, non lo so, altre foto? Allora, ripeto, è stato come dire? No, no, sulle pennine, non sull'hard disk. Ah, sulle pennine è la stessa cosa, quando il software in case va a interagire con le pennine e dà una preview e c'erano i nomi più disparati tipo foto carolina, foto casa. No, perché è interessante, parliamoci chiaro, perché in ufficio quando entrano gli inquietti, cioè sono entrati quasi dopo un'ora, anzi no, molto più di un'ora, però anche quando viene trovato purtroppo il corpo di Ravido Rossi è passato molto tempo, no? Allora se c'era una foto dell'ufficio, non riuscite a capire se c'erano oggetti prima e oggetti dopo che magari mancavano, noi potevamo capire se qualche oggetto si era rotto e qualcuno l'aveva portato via. Ecco, quindi diciamo, mi basavo un po' su questo, quindi le chiedevo se si ricordava in maniera molto, perché è molto chiaro lei, quindi voglio essere molto chiaro pure io, se uno poteva fare una differenza tra foto prima dell'ufficio e foto dopo. Ecco, era un po' questo. Se si ricorda che c'erano foto dell'ufficio? No, su quello, c'è andato subito all'occhio foto famiglia, foto casa e basta. Foto dell'ufficio... Adesso diciamo non ricordo, va bene. No, no, non è che non ricordo. Ah, non c'erano? Non ho a mente foto che riguardassero l'ufficio. Nella banca c'erano alcune foto? Della banca, tipo? No, no, nelle chiavette che abbiamo preso all'interno dell'ufficio del dottor Davide Rossi c'erano solo video promozionali della banca. No, dicevo foto di dottor Rossi private che stava in banca. Ah, no, no, quelle non... Vabbè, sull'hard disk ci sono, cioè, quindi era per questo che le volevo chiedere se c'erano sulle chiavette, che quelle non ce le hanno dato. Però volevo capire una cosa, questo è un dispositivo che utilizza l'Incase, cioè che cos'è? Sì, l'Incase è un software di una... è un software forense. Sì. Che cosa fa Incase? Permette ai file di acquisizione di essere poi interpretati con un codice tutto suo. Sì, sì, con un FTCAP. Io però, se le mi permettele, perché sennò diventiamo molto molto lunghi, io mi permetto, ovviamente tutto il suo tempo. Però volevo capire, cioè, questo software sta su un dispositivo, ecco, la mia domanda è un attimo questa, prima che cosa fa Incase, no? Io dico, cioè, voi attaccate una pennina al computer e nel computer c'è l'Incase o c'è proprio un dispositivo che attaccate mediante Ethernet, mediante... Mi spiego, guardi, è molto semplice. Il software è un software che può essere installato su una moltitudine di computer. Ok. Per funzionare ha bisogno di un dongle, cioè di una pennina sua, che è una chiave sua, che dà l'avvio a una certa attività, però quella dopo... L'acquisizione la fa lo stesso. Il dongle serve per analizzare ciò che è stato acquisito. D'accordo? Mm. L'hard disk viene collegato ad uno strumento a blocco scrittura, ovvero sia permette solo la lettura, ma mai la scrittura, mentre le pennette USB sono state analizzate con la stessa metodologia, cioè a blocco scrittura, però a livello software. Ok, allora però mi dica una cosa. Quindi lei stacca l'hard disk da un computer? Sì. E lo attacca a che cosa? Un dispositivo o un computer? No, lo attacco ad un dispositivo che è collegato... Bene, quanti dispositivi avevate? Allora, uno, due... o tre o quattro. Quindi lei mi sta dicendo che in quella stanza però non l'avete fatto, l'avete fatto... No, l'abbiamo fatti poi in sezione. Perfetto. E quanti dispositivi avete usato? Uno, due, tre, quattro? Si può vedere dal report? Due sicuramente. Quanti? Due sicuramente. Perché siccome gli hard disk erano uno, due, tre, più... erano tre hard disk, per cui c'era anche necessità di avere in maniera celere questi risultati, per cui uno era quello che utilizzavo io, uno e l'altro collega e abbiamo fatto subito queste acquisizioni forense. Ma dai dispositivi dell'encase si può capire qual è il dispositivo che viene utilizzato? C'è un codice? No, 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 non c'è un codice. Nei file di log del report dell'acquisizione vi è il numero dell'hard disk, i parametri vitali dell'hard disk e cosa fondamentale, in fondo, alla verifica del codice hash. E quello sono d'accordo. Però qua, su questo, l'encase report, le ce l'avate nei documenti? Qualcosa dovrei avere. Dovrebbe averne tre. Sì? In un documento, perdiamo quello di... vediamo un po', alias itaci, k, g, c, t, lo avete, evidence number itaci. D, u, 6, e. Bravissimo, questo qua. Mi dice, in questa pagina, dove posso vedere qual è il dispositivo usato, c'è un qualcosa che lo definisce oppure no? Cioè, un... No, no, non c'è qualcosa che lo definisce, assolutamente no. A che ora le avete fatti questi... Allora, guardi, era il pomeriggio, questa è le 17 e 18. Quindi, 17... io vedo 17... ah, allora, il computer system clock read vuol dire che è iniziato alle 17 e 18? Sì, 17... però, aspetti... Ah, mi dico. Quello nostro, il computer, siccome l'hard disk viene collegato ad un sistema, ad un hardware particolare che blocca la scrittura, l'encase va a dire che il 7 marzo 2013, cioè 17 e 18, il sistema clock read, cioè quello del computer che sta facendo l'acquisizione, riporta l'orario 17 e 18. Benissimo. Tenga in considerazione che questo orario... Quindi è l'orario del computer? Quello nostro. Quello vostro. Quello che abbiamo utilizzato, sì. Ok. E il computer era sempre lo stesso che utilizzavate? Sono due computer, quelli che potevamo utilizzare... Ah, quindi, anche due computer? Due computer che potevamo utilizzare in senso. Andavano collegati a internet, si computer, normalmente? No, normalmente, anche se... No, 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 è una policy che abbiamo sempre adottato io e l'altro mio collega. Quando effettuiamo queste attività, sì, non c'è miglior sicurezza del computer che non è collegato alla rete. Ok. Per cui, prima di farlo, scarichiamo tutti i driver che sono necessari, i vari programmi e quant'altro, dopodiché, se sono sufficienti, stacchiamo la rete, che comunque è una rete protetta perché era del Ministero dell'Interno già quella è una protezione piuttosto importante comunque noi per default staccavamo e davamo ok, io però per chiederle qua sono documenti ufficiali oppure no? questi qua? questo verbale sì ok, allora mi vada senza vedere il secondo andiamo direttamente a quello interessante sul WD, WCA, V3 eccetera eccetera con l'Encase Report, mi perdoni sì mi dice perché l'orario è 4 e 12 4 e 12 sì, perché abbiamo sbagliato abbiamo inserito abbiamo lasciato l'orario quello americano e che vuol dire? ah, che sarebbe PM? nelle impostazioni nelle impostazioni quando possiamo dare il nome il nome ci sono dei parametri con Encase sui quali possiamo interagire chi è l'operatore quale sia l'evidence number quello e l'avete riportato da qualche parte? no, guardi no, non l'ho riportato da qualche parte perché si rende conto non lo leggiamo ecco ce ne siamo accorti anche io ora ma le dico subito è perché non abbiamo riportato l'orario in Italia quindi questo qua sarebbe se gli altri sono fatti alle 5 questo viene fatto cioè l'altro è fatto alle 5 a quell'orario lì tenga in considerazione quindi lei esclude che questo sia stata fatta più di una copia dell'English anche perché anche perché è quello del fisso le operazioni di acquisizione possono essere ripetute anche senza il famoso 360 ok cioè sono atti ripetibili l'acquisizione dipende se tu me lo accendi e poi me lo rivedi no, no ma l'originale l'originale una volta che è sequestrato se io dovessi rilavorare sull'originale rifaccio ancora all'acquisizione e lavoro sono d'accordo però lei mi dice che se un computer viene spento poi non si può riaccendere per rilavarci sopra no? cioè in generale mi ha detto no? sì per acquisizione intendo io l'hard disk è comunque salvaguardato da qualsiasi funzionalità bene cioè non c'è una come dire perché glielo dico perché lei fa un rapporto delle 10 e mezzo di mattina che poi si conclude un altro inizio alle 14 e 30 dove lei è presente perché mi ha detto da Incarelli Michele con il sovrattendente penso Bonelli Andrea sì ok al fine di verificare gli accessi sospetti perché le danno un file di log adesso andiamo a vedere come è fatto però alla cui mail trasmessa da Montalbano quindi voi riattaccate l'hard disk che avevate staccato ed accendete il computer ma aspetti scusi di quale verbale di quale verbale allora verbale di esecuzione ispezione informatica e di acquisizione atti il giorno 7 di marzo alle ore 14 e 30 insieme a Rocca salibeni eccetera eccetera non so non ce l'ha questo allora non ce l'ho ma le posso dire e mi dico però cosa succede perché se l'ho riattaccato alle 14 e 30 allora non mi torna giusto giusta osservazione le dico alle 10 la mattina quando siamo arrivati lì con i PM c'era questa questa famosa password che non veniva trovata per cui noi abbiamo fatto le operazioni che ho detto finora abbiamo reperito tutto il materiale poi ci è stato dato l'ordine di prendere quell'hard disk e noi l'abbiamo preso giusto che cosa è successo nel mentre che siamo andati che stavamo andando a Firenze per per effettuare l'acquisizione forense dei a Firenze non a Siena allora no 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 a Siena aspetti a Siena per quanto riguarda gli hard disk ok per i cellulari ah ok a Firenze ok mentre stavamo andando a Firenze che cosa è successo che siamo stati ricontattati dalla procura perché era probabile che avessero trovato la mail la password e che cosa cambiava nell'attaccarlo e che cosa è successo è successo che su disposizione del dottor Anastasi o di insomma di PM c'erano Natalini e Anastasi esatto ci hanno ci hanno indicato di ricollegare il computer come era prima provare la password dopodiché ci hanno detto no ok potete riprenderlo tant'è che la verbalizzazione è stata fatta dai PM stessi no no sono d'accordo però quello che mi ha detto prima quando in generale si spegne è qua però è successo non in generale però devo dire che il PM per le attività di polizia giudiziaria alzo le mani perché il PM è il PM ha già avuto la direzione delle indagini per cui per noi è come dire lei mi sta dicendo me l'ha detto il PM l'ho fatto questo sarebbe sì è un po' più sì va bene così come l'ha sintetizzato per noi e l'ha fatto presente che il computer era stato staccato e che generalmente quando un computer è spento non si riattacca si fa la copia forense era una cosa è una cosa che come dire ormai era con il rapporto di reciproca collaborazione che avevamo sia con il dottor Natalini sia con il dottor Nastasi era come dire un dato ormai assodato però credo che in quel momento avessero ponderato sulla su ciò che era più importante su ciò che si poteva perdere adesso ci arriviamo un attimino su questa considerazione credo non me ne voglia no ma ci mancherebbe però quello che voglio capire è che si attacca di nuovo questa hard disk noi abbiamo la copia forense quindi vediamo un po' tutti gli accessi addirittura tutte le operazioni fatte questo sia chiaro però quello che voglio capire cioè me lo dico perché lei è informatico e vedo pure molto bravo però mi faccia io sto davanti al computer non ho più l'accesso lei mi sta dicendo perché non corrispondeva più la password no? sapeva se quel computer era stato bloccato e quando era stato bloccato che l'utente è disabilitato questo lo sapeva oppure no? vorrei rimodulare un attimo la sua affermazione sì io non sapevo che era bloccato cioè quella mattina quando stavo là non gli era lì quella mattina quando siamo andati là c'era il computer in stand by sì con riattivazione attraverso l'immissione della password giustissimo questa password non noi non la sapevamo le varie figure all'interno dell'audit dei sistemi di sicurezza della banca ora perdonatemi non so che livelli avessero non avevano questa password e per cui chi fu chiamato per avere questa password guardi ribadisco sembra un lasso di tempo piuttosto consistente ma invece si è concretizzato tutto nel mentre che il dottor Nastasi era lì assieme a noi e stavamo guardando quelle famose chiavette per cui ma però mi faccia chi metteva la password per entrare in quel computer qualcuno sarebbe entrato in quella stanza a mettere una password come facevate a dire non riusciva ad entrare con la password grazie però qualcuno c'era un tecnico allora si però sempre con il beneficio del dubbio certamente perché c'era una una terza persona che poi ho anche escusso a sommare informazioni che era stato chiamato e che aveva provato anche lui a inserire le password che di solito venivano utilizzate dal dottor David Rossi ma dopo il secondo tentativo ha desistito perché al terzo sarebbe stato bloccata l'utenza lei come si accorge se io faccio tre tentativi e l'utenza mi viene bloccata allora di norma il sistema avvisa dei tentativi e là lo avvisava? ripeto è come se io mentre parlo con lei so che alla mia destra ah quindi non stava vedendo fisso quello che mi perdono ok e no perché magari se qualcuno l'hanno provato a mettere si ha fatto due prove se ne avesse fatto una o un'altra una prova prima magari la sera se l'hanno bloccato così diciamo infatti è per questo che credo che i PM abbiano ponderato la necessità di staccarlo in quella prima fase e di riprenderlo e con la seconda e allora mi faccia capire quando un computer si stacca l'hard disk si poi io rientro rivedo un'altra volta quello che sta facendo Davide Rossi sul desktop no assolutamente no perché tali informazioni si rimangano in maniera volatile sulla RAM e su anche sui file temporanei per cui infatti le dicevo quando c'è la possibilità di interagire su un computer acceso una delle cose che si fa a meno che non sia come dire non indispensabile è quella di acquisire a livello forense anche il contenuto della RAM perché può servire però in un'attività no perché era bloccato era tutto bloccato e non era il computer per acquisire la RAM deve essere per come lei lo prende quindi lei mi sta dicendo che il computer è bloccato o l'utente è disabilitato c'era una differenza? allora ripeto ho visto quei tentativi ma non so se erano riferiti a utente però poi l'ha saputo quando ha escusso il dottor Pieri allora quando ha escusso il dottor Pieri ecco come si chiama il dottor Pieri scusi non mi ricordavo il nome il dottor Pieri li fumo delegati dal dottor Natalini con delle domande ben specifiche tant'è che noi non avendo più avuto notizie di tutta questa attività ci siamo limitati a effettuare la domanda specifica e a riportare testualmente quello che va riportato che veniva detto e questo il quale intaggino era quella della morte del dottor Rossi? sì sì mi pare che era nel pochi mesi dopo l'evento il triste evento però dico voi avete escusso il dottor Pieri nell'indagine del dottor Rossi allora ce l'ho qua se posso prego prego prendo il suo tempo Presidente se è importante 10 minuti mi servono grazie noi l'abbiamo importante mi regolo ma il dottor Pieri nell'ambito del procedimento penale 1927 quindi quindi non sono d'aiuto perché sono stati aperti diversi 1927 si va a vedere è un altro cioè non è l'indagine però lei fa domande sulla proveniente scusi proveniente dal procedimento penale 1637 quello che leggo nella delega però ripeto non so quanto però le domande che lei l'ha fatta l'ha fatta su un qualcosa che era successo col caso Davide Rossi sì si 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 basava anche sull'archiviazione di qualcuno sulla richiesta di archiviazione sulla opposizione di archiviazione se lo ricorda no però c'è l'altra che era avanti il documento no? sì questo ce l'ho e quando dice a pagina 12 della del esatto quindi si riferiva si riferiva alle domande che aveva già la procura che aveva fatto e non conoscendo nulla di quel procedimento al di fuori di quella giornata io ho riportato testualmente quello che mi veniva detto per come mi era stato chiesto di chiedere non necessariamente il funzionario sa il procedimento al quale attiene la delega però la delega attiene fatto certo certo però dico se lo sa lo sa se non lo sa amè vabbè io non è che sto incolpando io direi ma che no però c'è una parte sì sì rileggendo posso intuire perché adesso non mi ricordo dopo tanto tempo che cosa aveva detto il dottor Pieri però rileggendo posso intuire anche che cosa che cosa volessero ecco ecco ci dica ci dica che ci qualifica il numero del procedimento poi non andrebbe a vedere il procedimento se è il processo di confronto però mi dica c'è nel senso dica pure ok il dottor Pieri puntualizzava sulla sua qualifica all'interno della banca sì come poteva interagire in qualità di amministratore di un qualche livello o settore come come preferiscono dirlo loro quali privilegi poteva modificare in qualità di amministratore e in poche parole anche lui riferiva qui di avere qui ci diceva che l'utente era in stato di disabilitazione quindi qualsiasi tentativo di accesso con la vecchia password sarebbe stato inutile sì poi e poi prosegue facendo riferimento ai paragrafi delle pagine che lei ha citato perché nella domanda c'era quei riferimenti che ci erano stati dati dalla procura ma il dottor Pieri dice pure quanto è stata disabilitata quell'utenza se lo legge ce l'ha davanti mi metta in crisi con gli occhiali per quanto riguarda l'utenza rossi ho personalmente verificato e segnalato al procuratore e l'utente risultava sicuramente disabilitato poi dove ora una data non la vedo allora come riportato al paragrafo dove sta vediamo un po' la password sarebbe allora ulteriori approfondimenti con i responsabili delle sicurezze informatiche della banca confermarono che l'utente risultava essere stato da loro disabilitato per ragioni di sicurezza la sera prima subito dopo essere stati a conoscenza del fatto ok si l'ho trovato si ora mi faccia capire una cosa se io cambio la password e voglio accedere secondo lei io riaccedo un'altra volta nella sessione di prima no assolutamente no assolutamente no anche se cambio la password io non la vedo più assolutamente no ogni variazione di accesso che comporta come dire non prendete la lettera il significato ma un reset di quella di quella impostazione che si sono che si sono attivate con l'uso di quella password viene meno bene ora secondo lei mi faccia capire un utente disabilitato ma anche non disabilitato perché lei guarda un file di log lei l'ha visto il rapporto dei file di log allora perché lei è in quell'ufficio siccome è in quell'ufficio i tecnici chiamiamolo così del monte dei paschi è presente su cose troppo importanti io mi servono 10 minuti mi perdono però è intensizzare mi perdono però abbiamo esperti sono contento almeno di però dico è un tema che dialogate solo voi e tutti gli altri è vero no no più che altro per la base informatica diciamo allora mi dica lei però ha riattaccato quella hard disk che stava là la motivazione lo dice per verificare gli accessi sospetti sul pc in uso del rossi del 6 marzo ore 21 e 50 56 24 e 37 li verifica lei questi accessi sospetti no 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 e chi le verifica no 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 tutte le operazioni che sono descritte poi negli allegati nella pagina paragrafo pagina 12 11 e quant'altro non sono stati verificati né da me no no io sto parlando della dichiarazione di piedi che magari prendiamo il 7 di marzo alle 14 e 30 alla sua presenza le riattacca l'hard disk e riaccendete il computer lo disattiviamo subito vabbè togliete diciamo non era non era quella lo riattacchiamo per per mettere l'accesso ai pm benissimo ma l'accesso non c'è stato non c'è stato accesso non c'è non c'è stato accesso io non l'ho non l'ho visto funzionare quel allora mi perdoni il coso ci sta cita è una cosa che diventa particolare perché poi alla fine viene detto che si verifica che questi accessi sono stati dati dal movimento del mouse e come l'avete verificato allora non solo i 4 eventi legati dovuti alla riattivazione del sistema operativo a fronte di sollecitazioni meccaniche esterne i movimenti di mouse ovvero di tastiera ovvero in questo caso vorremmo dire o di tastiera effettuati in coincidenza ai predetti orari tutti i debitamenti verificati e riscontrati pertanto si può affermare che non è stato effettuato alcun accesso al pc uso del rossi negli orari né nelle postazioni fisse né dal remoto e chi l'ha verificato questo? non da né da me né dal mio ufficio tutto questo verbale ve lo porto? si lo vediamo il verbale di sommare informazioni? no no adesso vediamo questo qui che è quello di cui cita l'onore migliorino ci sono le firme nel senso che quelle sono state le firme sono gli ufficiali di polizia giudiziaria intervenuti procuratore della repubblica nastasio e natalini lei riconosce la sua firma fra queste o quelle dei suoi colleghi? si adesso io dico si certo allora mi dica non è stato più acceso quel computer dove è stato acceso cioè siete dradi oppure no? allora io mi perdoni sono passati un po' di tempo prendiamo il nostro tempo io non lo sto accusando di niente però ci sono degli altri no è solo per questo le ho detto l'ho detto all'inizio mi perdonatemi di tante cose ma anche sono dettagli molto tecnici sui quali magari però è importante perché se mi dice non abbiamo avuto nessun accesso non abbiamo le copie florenzi vediamo delle cose e c'è un verbale che dice quello allora qua c'è qualcosa che non torna chiamiamola se mi permette logon un locket locket che cosa voglio dire locket vuol dire che non è che ha acceso è spento è quando va in stand by e quando uno tocca il mouse il sistema operativo è attivo quando succede questo oppure no cioè lei mi sta dicendo che se un mouse si muove il sistema operativo è attivo perché è quello che fa il blocco della disattivazione quindi lei mi sta dicendo che muovi un mouse si modifica un registro di eventi del sistema di windows o si attiva solo lo schermo non l'ho capito se io sto da fuori perché non sto più sullo schermo ok si attiva l'evento sul registro eventi di windows in cui c'è scritto ok attendo la password ma la password no 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 attenzione il monitor forse va in stand by perché ci sarà il risparmio energetico del monitor esatto su windows già ci siamo nella parte fuori cioè già stiamo nella schermata dovuto riprendere ctr alta cance per mettere la password se io muovo il mouse non è che ho premuto ctr alta cance cioè muovo soltanto il mouse lei mi sta dicendo un evento il registro di eventi di sistema si modifica tutte le volte che muovo il mouse tutte le volte che si attiva la richiesta di immissione che si attiva la richiesta muovendo il mouse non si attiva la richiesta ci vuol ctr alta cance no lo vediamo dalle immagini con tutta sincerità con tutta sincerità non me ne voglia nel mio computer quando io va in stand by vero se uno preme arriva quella schermata però generalmente succede quando c'è uno screensaver e poi è la prima volta che esce noi abbiamo le immagini di chi entra in quella stanza che già stiamo sull'immagine già al di fuori di windows se no abbiamo i video del marini eccetera del sovrintendente marini eccetera io quello che le vorrei chiedere cioè nel senso quando come si è fatta a verificare perché questo lo dicono forse i signori tecnici non si capisce chi però della diciamo della monte dei paschi di siena ma voi avete come sta cito in quel rapporto confrontato questa cosa avete messo un file smc avete visto il file degli eventi che avete fatto con windows per capirlo se lei mi dice addirittura che non c'è entrato no no mammi scusi pensavo fosse questa ma questa non è la mia firma qui non secondo lei sono le firme dei suoi colleghi quelle della polizia postale o sono in firme di altri sono ufficiali di polizia giudiziaria anche se non sono tutti identificati almeno prima face allora questi questi questo verbale di acquisizione qua questo qua che riporta anche questi log questi log sono stati dati e questi qua sono i log dati dal mps esatto e quindi non stiamo parlando perché loro portano questi e voi venite richiamati ritornate e riattaccate l'hardisco 14 a 3 portano questi infatti noi questi non li avevamo visti però li portano là e voi attaccate il computer per controllare questi sì però voglio dire c'è scritto nel verbale sì è un verbale che inizia alle 14.30 e si conclude alle 15.15 ci sta c'è scritto il tempo il tempo materiale di di attaccarlo quindi lei stava là allora chi l'ha controllato a parte che quelli non sono file perché quelli non sono file sì 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 per quanto mi ricordo una volta riattaccato il risultato era uguale era lo stesso a quello prima quindi non c'è stato l'accesso a windows io che mi ricordo non c'era davanti a lei non c'è stato l'accesso a windows scritto nella scella andate a vedere no esatto e quali sono qual è il file di log visto che è un aspetto informatico file o files di log che indicano lock e unlock ma quali sono perché quello è un email dove non c'è un allegato di file c'è un corpo c'è un testo di un email secondo me con un copia e incolla ma per chi conosce i file di log sa che la formattazione in un file txt magari se lo riesce a vedere non è come quella di un email quindi va pure modificato questi file di log che vede secondo lei da dove vengono cioè chi l'ha confrontato l'ha detto quello di MPS ma poi l'avete confrontato oppure no allora ritorno a ciò che ho detto all'inizio se avessimo in qualche maniera interagito con le acquisizioni forense per cui analizzato quegli a risk le potrei dare una risposta ci credo certa considerato che noi abbiamo ci siamo soffermati all'acquisizione forense avuta la presenza poi dei PM per cui per noi massima espressione di autorità a livello di polizia giudiziaria noi ci siamo delimitati solo e esclusivamente da ciò che ci ha io non l'accuso di niente lei mi dice quando sei arrivata là non sono entrato quindi c'è sto verbale che lei dice questa non è la mia firma va bene no guardi ho detto che è probabilmente questa ma si sovrappone a quella e l'altra è questa qui scritta male mia tipica per quanto riguarda i log vedo qui che sono stati dati da alcuni personaggi della banca l'abbiamo detto in pubblico Montalbano Leandre eccetera esatto questi del consorzio operativo però se io le interpreto bene fanno fanno è l'attività dell'utente S50 67 00 e questa è la postazione del dottor Davide Rossi 8 e 41 e 56 del 6 marzo lo gone ok sì che vuol dire che si è acceso lo schermo log che si è acceso lo schermo cioè lei mi sta dicendo che se uno schermo io interpreto così poi se ma si è acceso lo schermo che vuol dire che aspetti alle 8 e 42 un lockhead si è richiuso per me attivare lo schermo e lockhead è un lockhead è quando ti arriva la maschera di inserire la password va bene allora va bene i suorari poi non c'erano però mi faccia capire soltanto una cosa lei quando ha escusso sempre il dottor Pieri dice non sono certo che nei log del pc del Rossi sia possibile trovare l'evidenza di tentativi di accesso falliti in quanto solo alcuni eventi vengono registrati sul file specifici per ragione di efficienza del pc stesso ora queste motivazioni vengono riportate in archiviazione di questo caso ma è stata fatta voglio dire uno cioè un'indagine voglio dire un po' più approfondita di queste cose perché io se leggo delle dichiarazioni sono un informatico vedo quelli che non sono file è un copy and colla in un corpo di un testo di mail come cioè non sono file allegati che sono cioè nel senso un dubbio mi può venire allora dico magari aumentiamo un po' ste indagini e le chiedo quando un pc viene spento in questo caso avete staccato l'hard disk e l'avete rimesso ma era opportuno o meno visto la sua grande esperienza chiamare un ctp un consulente tecnico di parte avvertire o si fa e basta per quanto riguarda la polizia giudiziaria si fa ciò che il pm delega avendo acquisito in quel momento la direzione delle indagini anche e poi se è riferito a questo non so che cosa risponderle se è riferito ai file che sono a queste cose che sono riferite nelle sommarie informazioni anche su questo mi trovo estremamente in difficoltà perché non le abbiamo analizzate noi non ci sono state fornite a noi c'è solo stato detto formulate queste domande e riportate e questo viene a dopo il 4 ottobre 2003 io però quello che le voglio chiedere perché devo andare veloce io qua ci starei però uno che sono importanti perché sono forse informazioni molto importanti quelle che daremo adesso voi avete ricevuto però perché se no a chi l'hanno mandato voglio capire i file della posta PST dicono anche OST di di coloro che stavano in MPS quei file della posta elettronica di Outlook ovviamente si sono stati forniti su un DVD o un CD è stato immediatamente depositato presso la cancelleria del dottor voi non avete avuto modo di vederli non c'è stato dato delega di fare nulla di queste cose probabilmente ce l'hanno avuto altre forze di polizia non noi no perché le dico cioè noi abbiamo la posta elettronica che sta sul computer di Davide Rossi questa posta elettronica invece di cui parliamo da dove è stata estratta dal computer di Davide Rossi o dal server quello lo sa? quella che citavo prima quella che le hanno dato sì quella che mi hanno dato sul DVD allora a una fine di uno dei procedimenti a questo punto non so indicarle quale sia fu ridato l'hard disk del computer in uso nello studio in uso al dottor Davide Rossi ad un familiare a questa signora che fra l'altro è un ingegnere informatico la cognata Benedetti va bene è Benedetti la signora Benedetti scusatemi non mi ricordavo il nome la signora Benedetti con questo hard disk ha interagito personalmente collegandolo per sua stessa ammissione quindi lei dice che l'email del 4 marzo l'ha avuta dal PST del computer fisso che era stato sbagliato a dare o l'ha avuto perché gli hanno dato i file PST che era voglio dire dell'indagine allora le attività svolte da me personalmente sono a margine e sono finali e quelle che ho sviluppato io sono sull'hard disk che è stato dato alla signora Benedetti Benedetti le altre precedentemente sono state sviluppate dagli altri miei colleghi e addirittura dal compartimento polizia postale ok quindi lei mi sta dicendo che i file dati presi dal server o no quando furono dal MMS quel 7 marzo l'altro sia l'altro collega che il personale del compartimento non so su quali file abbia interagito io personalmente ho interagito sull'hard disk che era dello studio del dottor David Rossi riconsegnato ad un familiare il familiare ha ma era quello del fisso era l'altro portatile non è che si no no era quello del fisso la mail pst del fisso già come grandezza è diversa da quella che gli è stata data dai signori di MPS andando ad aprire tutte e due sono diverse cioè quindi lei cioè quella mail che viene data da questi signori di MPS abbiamo visto un po' chi era no? sono arrivati qua poi noi sentiremo forse un altro se il presidente accetta diciamo e quell'e-mail a noi dice che è stata partata via dal Microsoft Exchange ma se voi non avete avuto accesso dal computer fisso quel giorno sarà stata presa da server se no da dove veniva presa cioè voglio dire sembra matematica questa cosa oppure non è possibile perché se no avete attaccato l'hard disk con un altro computer vi siete andati a prendere il PST però non si può fare perché ci vuole la scrittura il blocco di scrittura eccetera eccetera mi perdoni sì e chiedo scusa a tutti se sono io che non ho capito la domanda è molto informatico guardi cercherò cercherò di spiegare io personalmente io personalmente ho operato su delega ok sull'hard disk già riconsegnato alla famiglia la signora Benedetti indicava di aver rinvenuto e questo sono d'accordo va bene io ho operato su quello quello che hanno fatto gli altri però a me pare che all'inizio non fu consegnata ma solo i computer siamo sicuri che la Benedetti non abbia visto da un altro computer di quei tre le dico con certezza quello che ho fatto ok perché è stato motivo di studio di diversi giorni io comunque le dico di base che le due mail e le pst sono diversi cioè nel senso quindi c'è qualcosa che vabbè forse con approfondimento ovviamente grazie al Presidente lo faremo magari Presidente Corraci stesse cose di metterlo un po' in confronto perché ora ma mi perdoni sì prego pensavo avesse finito mi perdoni i file allora tanto per essere chiare per tutti quando una grande azienda come Banca Monte dei Paschi ha diversi dispositivi ognuno a diversi dispositivi un iPad un cellulare un computer e quant'altro per far sì che la posta elettronica sia sincronizzata su tutti i dispositivi che viene utilizzato dal singolo impiegato del Monte dei Paschi si utilizza un software particolare che si chiama Microsoft Exchange la particolarità di questo software è che gestisce e comprime la mole dei dati della posta elettronica in un file denominato ODT qui ST dipende no no scusi OST forse OST certo certo ok ok ce l'ho troppe in me OST se io prendo questo file così è solo un file ci vuole un altro software che praticamente trasforma questo file in maniera che io possa vedere mail numero uno del giorno indirizzata a ovvero sia esistono vari software che si chiamano OST di VIEVER che ti danno l'opportunità di di vederlo la signora si si quello della benedetti quello l'abbiamo chiarito ok sbagliate c'era usato un software craccato io non mi voglio fermare io quello che le sto dicendo ci sono due PST che è il file di Outlook che uno va nelle cartelle temporanei dati accessori allora aveva introsi xp ecc c'è tutto un percorso dove noi troviamo i PST se uno si va a prendere quel PST lo attacca un altro Microsoft Office a pari 2003-2007 che utilizzava Davide Rossi se lo carica a pari pari e vede tutto quello che c'è dentro ma quello che è stato fatto da questi signori del MPS è diverso da quello che sta sul computer fisso lei questo lo sapeva o non lo sapeva? no non lo sapevo per arrivare a concludere una piccola cosa perché è importante lei quando entra in quella stanza si ricorda se c'era un post-it o avevano messo dei segnali tipo con la scritta gotti tedeschi ne è venuta a conoscenza ha approfondito un po' di indagini ne è stato detto qualcosa? allora no in tutti i fronti se non che post-it c'erano però poi non è stato chiesto di dire guardi c'è un post-it con la scritta Ettore Gotti tedeschi con numero di telefono lei non ha approfondito sull'hard disk quando ha visto quell'hard disk non ha visto nessuna lettera proprio con la scritta Ettore Gotti tedeschi in Word ha visto mai i file Word quando faceva la copia non ha mai visto una lettera quando abbiamo fatto la copia proprio perché agivamo piuttosto con dovizia con precisione e quant'altro non ci siamo soffermati ad analizzare il contenuto ci siamo sbrigati spicciati in maniera alasenese a effettuare le acquisizioni forense e che le stesse andassero a bollire quindi l'ha fatto qualcun altro sta analisi sono state chieste lei lo sa? non lo so chi l'ha fatta però lei non ha visto nessuna lettera è un Word con la scritta lettera Gotti tedeschi non l'ha vista? no quando lei parla di lettera cosa intende? un documento Word che Davide Rossi stava sul computer di Davide Rossi con la scritta con la lettera di Gotti tedeschi era un testo file? si un testo file un file Word o una mail? no 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 non un'email però quello ora ci arriviamo poi faremo fare un po' di indagini sempre col suo permesso presidente magari a capire se poi questa mail è stata allora lei avrebbe trovato nel nel cioè lei avrebbe trovato avrebbe individuato il computer fisso di Rossi un file che Davide Rossi dice che ha scritto Davide Rossi sta sul suo computer almeno questo che è indicato a Gotti tedeschi lei questo non l'ha visto se posso riassumere e cercherò di essere più breve bellissimo siamo arrivati lì ci siamo interfacciati con il dottor Nastasi il dottor Nastasi ci ha fatto analizzare quelle chiavette nel mentre ho alzato gli occhi ho visto altri partecipavano all'interno della stanza ma ci siamo e dopo non ne avete parlato perché ho visto che dopo ha riassendito il Pieri no? ma in queste domande non c'erano perché poi Postit è stato trovato il 12 di aprile effettuato questo siamo andati in ufficio abbiamo iniziato a fare l'acquisizione siamo stati richiamati per reinserire quell'hard disk siamo ritornati per andare a Firenze abbiamo consegnato tutto il materiale acquisito senza avere contezza voi non avete esaminato quello che invece ha esaminato non abbiamo esaminato non c'è stata data delega ah ho capito ho capito io mi faccio queste domande perché io questo lo capite è molto chiaro a quest'attività però siccome le ha detto che quando facevamo la copia di Firenze qualcosa ha visto guardi sempre per per la maggior precisione una volta che il software in Quaze dice ok riesco a leggere questo hard disk ti fa vedere le varie cartelle brava però una cartella recent tipo non avete dato un occhio uno di quelle cartelle che esce quindi una list che ultimi fa è l'aperto dottor Rossi ma no perché non era in delega però nel senso esce recent uno di quelle cartelle escono tutte le cartelle anche quelle nascoste o quelle che non sono nascoste o che sono state criptate da altri software escono tutte ma non le abbiamo guardate semplicemente perché al momento che il software dice ok inizia l'acquisizione e c'ha un tempo inizia la barra del tempo in quel frangente se io interagisco con il computer per cui vado a spremere la memoria RAM in modo che io debba anche analizzare lui mi aumenta il tempo noi non avevamo tempo per cui nessuna perché non avevate tempo? perché la delega era nel più breve tempo possibile noi siamo stati no no aspetta noi siamo stati dalla mattina fino alla sera e anche il giorno dopo eppure il giorno dopo no? eppure il giorno dopo ad acquisire questi questi e non e ripeto se io interagisco con il software lui mi aumenta il tempo io dico un attimo questo se mi permette no? perché dico che forse alcune cose ma lo dico un po' da informatico questo suo esperto forse lo sa però perché? perché diciamo nel recent a noi esce che è stato collegato un disco rimoribile F chissà quando si attacca una pennina generalmente non prende il nome disco rimovibile a meno che una pennina non si chiami disco rimovibile ma molte volte è indicativo di un hard disk questo conferma oppure secondo lei è sbagliato quello che sto dicendo? no no siccome noi vediamo molte operazioni che vengono fatte il dottor Davide Rossi in una data particolare che è il 19 e poi il 20 di febbraio ma avete mai cercato un hard disk dove Davide Rossi che è attaccato a quel computer fisso e ci ha lavorato e quindi non risultano dal computer fisso ma ad un dispositivo attaccato a quel computer e ci avete pensato? cioè era importante non lo so mi dica lei se questa cosa ci avete pensato oppure no? allora le dico no no alla polizia postale di Siena ma un suggerimento al PM perché non è che il PM può sapere tutto voglio dire magari queste cose non lo so cioè nel senso con tutta sincerità vedendo il grado delle domande effettuate al dottor Pieri ho intuito che qualche d'uno che aveva nozione di ciò che stavano facendo qualche d'uno c'era ribadisco anche che sia il dottor Natalini che il dottor Nastasi hanno un buon background di informatica poi alzo le mani certo se sapevano quello se sapevano quello e che controllo in quell'istante anche nelle richieste fu fatto per capire chi aveva avuto accesso da remoto perché nel reperbale che le ha fatto vedere il presidente vi è scritto che non vi è nessun accesso da locale o da remoto no? come si fa a dire? cioè secondo lei il file di log non so qual l'abbiano preso poi non ce l'hanno mai queste informazioni ai PM i quali hanno stilato questo verbale anche con la nostra presenza sono state date dai da tutte le figure apicali del monte dei Paschi all'interno credo però sono quelle che il dottor Pieri ha detto che aveva bloccato il computer la sera prima cioè a quelli che bloccano il computer o all'utente di Sabino utente la sera prima perché glielo dicono a lei dopo non ho capito le indagini cioè va a prendere il file di log e poi non si sa quali sono e va bene così cioè nel senso voi non siete stati incaricati di fare un controllo di quello che vi avevano dato l'avete preso per buono e basta oppure avete detto ma fammi vedere cosa mi hanno dato io vorrei capire se questo c'è stato oppure no 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 questo è stato dato in quel momento ai PM direttamente ed è stato preso per buono quel verbale è firmato dai magistrati però là si capisce che hanno avuto accesso al computer dopo poi non li vediamo alcuni accessi dopo però nel senso Natasi e Natalini sono quelli che firmano questo verbale quindi se noi avessimo degli accessi alle 14 alle 15 15 e 15 finisce quel verbale no scusi non ho capito no dico quel verbale finisce alle 15 e 15 15 e 15 eh io vorrei capire una cosa lei non è ritornato al lavoro tipo sulle parti dei file temporanei anche se mi aveva detto 100 volte sia chiaro però siccome lei mi ha detto vedo delle cartelle e lei dà delle indicazioni su come si usano alcuni software l'FTK image un software di come si fa la ricerca nelle poste elettroniche e poi ha avuto modo di lavorare sulla posta elettronica giusto? perché su Glimel del 4 marzo in particolare ho capito le prime indicazioni sono per proprio nella come dire nella più ampia espressione di collaborazione nelle attività di indagini con la procura procedente a fondo alla fine del verbale ho dato indicazioni di come poter però come si fa in generale non relativamente a quello ho dato delle indicazioni di modo che non avessero bisogno di noi e se avessero bisogno di noi io ho detto noi faremmo così per certe aziende io le ho chiedo ovviamente perché lei è un esperto informatico della polizia postale noi abbiamo avuto una relazione della polizia postale di Genova questa sede fu detto perché effettivamente il verbale faceva capire in quel modo quindi diciamo pure togliendo un po' di colpa a Pia Meparini perché l'ha letto voglio dire 35 ricerche eccetera noi i file diciamo di Google sappiamo che ricerca ha fatto perché si possono vedere in più viene indicata una foto di un certo suicidio che sarebbe stata vista il 6 la cosa bella è che in quelle cartelle dei file temporanei di Windows di Internet Explorer mi perdoni perché sa Internet Explorer c'è invece una foto con Ettore Cotti Tedeschi c'è mi pare il Cardinal Bertone c'è una foto di un articolo che parla diciamo di quella della vicenda che sta avendo Ettore Cotti Tedeschi oltretutto Ettore Cotti Tedeschi risaputo dai giornali scrive una lettera la consegna al suo avvocato per dire se mi ammazzano porta la data e quindi non avete fatto nessuna ricerca di cosa faceva Davide Rossi quella sera noi dopo allora dopo queste sono delle ricerche che ha fatto che abbiamo fatto noi cioè che ho fatto io dalla temporanei file ripeto dopo le attività sviluppate nella sera il giorno successivo il giorno dopo le uniche altre operazioni da me effettuate perché a mia firma sono le sommarie informazioni del dottor Pieri e la ricerca del doppio destinatario della famosa mail stasera mi help stasera mi suicido ho quasi finito sia chiaro lei mi sta dando molte volte questa risposta è importante perché così la escludiamo diciamo dal lavoro che lei non ha fatto ecco perché noi dobbiamo avesse chi l'ha fatto solo comunque per questo ho fatto molte domande e lei mi ha dato giustamente le sue risposte due cose il computer fisso non so se lei ha letto il rapporto della sera prima della polizia che lei ha chiamato colleghi quella polizia scientifica no? lei l'ha letto il rapporto della polizia assolutamente no è perché la sera prima compare solo un portatile e un fisso il giorno dopo escono due portatili e un fisso e lei mi sta dicendo che stava su una sedia nella borsa allora guarda come cosa le hanno detto dove sono stati trovati che cosa le hanno detto di quell'altro portatile sì allora il western tanto per dire un hard disk è dal computer presente uno è l'HP 6553 che è quello che aspetta mi perdoni se no vado in confusione io perdono allora il computer desktop del dottor Rossi aveva un hard disk benissimo ok da 160 gigabyte è meglio specificato nelle attività di acquisizione e nelle foto comunque è a pagina 3 del mio verbale del verbale che abbiamo fatto capoverso numero 1 va bene il secondo il computer portatile marca HP presente nell'ufficio del dottor Rossi e poi il terzo estratto dal computer HP compact presente nell'ufficio del dottor Rossi questo HP compact dovrebbe essere quello sulla sedia perché non l'abbiamo vista le immagini è quello sulla sedia che sta nella borsa come dice lei ma da dove è uscito quella mattina? questo cioè lei è entrato insieme a procuratore no io allora o dietro mi ha detto quando lei è arrivato lei l'ha trovato quando io sono arrivato noi abbiamo verbalizzato che erano lì quindi lei mi dice io sono entrato e i procuratori hanno aperto la porta che era chiusa se c'era un vostro agente eccetera siete entrati dentro lei me l'ha detto prima poi se mi sto sbagliando sulla sinistra c'era il computer sulla sedia in una borsa e l'altro poi mi ha detto non mi ricordo bene se stava sulla scrivania stava diciamo sulla scrivania dal lato destro con la spalla alla finestra ok? vicino al computer fisso cioè ovviamente sopra perché abbiamo le immagini ma sul computer sulla sedia ma quando è uscito che la notte prima abbiamo le foto e tutto c'è la descrizione della polizia scientifica non dà atto di nessun computer se lei è entrata insieme ai procuratori il computer stava già là ma come è arrivato? questo glielo chiedo io so che in quel momento in quella circostanza i procuratori non avevano assolutamente nulla in mano noi avevamo il mio con il quale abbiamo fatto le cose e poi abbiamo verbalizzato quello che abbiamo visualizzato nel verbale non c'è scritto dove era no? lei ce l'ha detto adesso qua cioè vabbè è giustamente magari uno non è che fa pensare però risulta particolare perché tutta la sera prima nessuno parla del Comba HHP lei mi dice che è già stata in quella stanza quando viene aperta e allora è stata messa la sera prima perché era io immagino che quando l'avete aperta c'erano i sigili mica l'hanno aperta così certo allora da dove esce questo computer gli è stato detto? non lo so ma volevo fare semplicemente un piccolo confronto c'è un altro computer ah c'è quello è della casa della moglie attenzione quindi non ci confondiamo con quello perché ce n'è un altro va bene quello lo trovano quando diciamo fanno ispezione sopra il luogo non vorrei sbagliare la parola la notte prima quello Acer esatto e quello va bene però questo qua senta io di quello non so che cosa dirle se non assicurarle che quello che abbiamo scritto è quello che abbiamo constatato in quella lei non può sapere certo non lo può sapere però nel senso l'ha visto però stava là io l'ho visto e stava là la porta era chiusa sigillata siete entrati e già stava là bene quindi non è stata una domanda lei ha visto aprire i sigilli o è arrivato dopo l'apertura dei sigilli io ho visto aprire i sigilli c'era una nostra collega hanno i sigilli praticamente era la collega che non si è mossa di lì ok vabbè però c'erano perché l'hanno fatta hanno aperto non avevo come sono entrato io in questa stanza sono entrati loro scevri da ogni nessuno portava questo computer esatto nessuno lo portava però quando è interessata poi noi siamo ok è interessante ovviamente ho concluso ovviamente però e poi con la parte in segretaria piccola però quando lei va a analizzare queste mail del 4 marzo giusto l'ha analizzata perché ha visto quella del riportata dalla signora Benedetti ok ma che cosa ha analizzato dei fogli oppure il file no no io ho innanzitutto rifatto l'acquisizione forense dell'hard disk che ha riportato la ha portato l'hard disk o un computer ha portato il suo computer allora non portate aspetti ha riportato il suo computer e l'hard disk e ha fatto vedere qual era la procedura da lei effettiva ah quindi il suo computer cioè della dottoressa mi perdone io ho riacquisito a livello forense l'hard disk che ci ha portato la signora con tutti i crismi tenuto conto che in case anche se non c'è un right block fa lo stesso è solo un po' più come dire se va bene va bene ok l'abbiamo fatta su quell'acquisizione ho estrapolato il file ost ok non l'ho potuto ridenominare come diceva la signora benedetti benedetti perché lei asseriva di averlo solamente rinominato come punto pst non è possibile non è possibile ho utilizzato no no tutta quella procedura io sono d'accordissimo lei l'ho letta perfetto io ho rifatto quello però su quello là su quel su quel pst quindi ha visto soltanto le mail del 4 avanti poi non ha visto altre mail altre cose nella posta elettronica no no io la delega era specifica su quella la polizia giudiziaria non è che può fare le indagini per punto su no infatti c'è una delega solo quella ok adesso io credo che però tanto per io avrei finito soltanto in segretata passiamo in segretata e fare l'ultima domanda è segretata solo per dare atto e mettere i puntini sulle i rispetto al verbale più volte ne avevamo parlato anche la volta precedente del 7 marzo dalle ore 14.30 alle ore 15.15 il verbale è un verbale della procura della repubblica firmato dai sostituti procuratori Nastasi sì sì siamo in pubblica non c'è non c'è problema Nastasi e Natalini se viene dato atto della sua presenza ma i verbalizzanti quindi quelli che da un punto di vista legale si assumono la responsabilità del contenuto dell'atto sono i magistrati e quindi non il non il funzionale di polizia no perché magari c'è si può creare qualche confusione così come non si dà atto della presenza del personale Montepaschi ma chi certifica chi chi firma e quindi attesta il contenuto del documento sono i magistrati questo per fare chiarezza perché sia evidente a tutti la responsabilità circa la verbalizzazione quindi questo del del nostro Mencarelli gli è stata data sotto l'atto della presenza della presenza non c'è da parte sua attestazione dei contenuti del documento assolutamente no io solo è perché mi capisco poco di informatica ma con l'avvocato magari qualcosina capisco hard disk dal computer reinserito ricollegato con gli stessi cavi nelle stesse modalità e poi c'erano tutte le figure che hanno provato sì sì ma rispetto alle argomentazioni dell'onore migliorino molto pertinenti molto approfondite che rilevano a suo giudizio almeno delle discrasie è giusto evidenziare che queste ove sussistano io non sono in grado di dire se sussistano o meno non possono ascrivibili né alla figura del funzionario Mencarelli né tanto meno degli altri presenti ma sono semmai ascrivibili ai procuratori della Repubblica i quali le avranno assunte come informazioni dai presenti ma che l'attestazione promana dai magistrati tant'è che è un verbale della procura della Repubblica non è un verbale di polizia giudiziale allora direi che passiamo dalla parte secretata giusto? non ci sono altre domande e quindi facciamo una domanda io disimparo grazie a tutti 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 E quindi diamo corso alla terza e ultima audizione della giornata che è quella di Paolo Zotto. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 nella sera del 6 marzo 2013, nella quale è deceduto Davide Rossi, lei è stato chiamato mi pare in banca per svolgere delle attività delle quali noi le chiediamo di ricordare il contenuto, allora adesso lei schiaccia questo pulsante rosso e parla vicino al microfono, allora lei intanto ci spiega, poi magari l'onorevole migliorino le farà qualche domanda. Dunque, il mio compito all'interno della banca come altri colleghi era di gestire il discorso degli impianti eccetera, dovevamo seguire le ditte facevano la manutenzione e cose del genere, in più gestivamo anche un discorso di amplificazione per quanto riguarda San Donato e altre piccole cose, eravamo reperibili la sera, nel caso ci fosse stato bisogno di qualcosa, quella sera reperibile, sì scusi, mi scuso, quella sera reperibile ero io, ora io l'ora esatta non la ricordo, mi ricordo ero da poco tornato a casa e il portiere mi chiamò, Massimo Ricucci, mi sembra era portiere, mi chiamò e mi disse bisogna che io intervenga, sentì un po' la voce agitata, però non mi disse cosa era successo o meno, io abito lì vicino, abito a un chilometro e mezzo o due dalla banca, ho preso lo scooter e sono salito. Arrivato in via Rossi, quando arriviamo in via Rossi c'era già le macchine della polizia, c'era già l'ambulanza, c'era già un po' di persone, un asseppamento, un po' di persone e quindi mi resi conto che era successo qualcosa di molto grave, al che lasciando un motorino in via Labbadia, che è una via subito sotto A, sono andato in portineria, in portineria, cioè il mio compito a quel punto qual è stato? È stato, siccome noi gestivamo un discorso anche di chiavi per quanto riguarda l'apertura di un armadio in metallo e assituato a una portiniera a Montepio, che praticamente alla quale facevano riferimento tutti i filmati di tutte le telecamere della banca, io ho aperto sia la porta che l'armadio, a quel punto era stata chiamata a intervenire la ditta, mi sembra era la COSIT, era la ditta che gestiva il discorso degli impianti ai Monti dei Paschi e a quel punto mi sembra era il signor Selciani, però ora io non ho la certezza, essendo passato molto tempo, praticamente c'era un funzionario di polizia, ora io non so dire il grado, non so, praticamente non ricordo, in presenza sua praticamente estrapolò dall'hard disk il filmato che poi, dall'hard disk dell'impianto diciamo delle telecamere a circuito di uso della banca, i filmati della serata, cioè di dove la telecamera facevano riferimento, e credo, credo ne abbia fatta… Filmato o i filmati? Ce ne erano più di uno? No, il filmato, il filmato, cioè credo abbiano preso solamente quello delle telecamere, cioè delle quali… Quello del vicolo dove è caduto… Sì, 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 credo sia stato quello là, e non so se possono stare fatte delle copie o meno, perché a quel punto l'intervento mio era già, diciamo, esaurito, io sono rimasto a disposizione, vado ora perché, sia per le luci, per tante cose dovevo essere lì, però ecco, poi non ho avuto nessun altro tipo di intervento, io non ho altre cose, onestamente non so in cosa potrei essere venuti, ecco perché… L'unica cosa, mi ricordo bene, è che la ditta consegnò questo filmato, credo, alla polizia, al funzionario della polizia, che mi sembra della polizia, e non so se poi lo visionarono o meno, penso di sì. Poi se sono state fatte delle copie o meno, questo non lo so dire, perché, diciamo, a quel punto era finito, lo scopo della mia intervento era finito, almeno ci fosse qualcosa… Ha guardato questo video, lo ha… si ricorda come è stato acquisito? Mi sembra che è stato messo in una pennina, una penna USB. Ma lei lo ha visto il filmato? Dunque, io ho visto l'inizio del filmato, però il filmato, siccome partiva, diciamo, penso da una mezz'oretta o anche prima di che succedesse il fatto, per un po' si vedeva lo spazio vuoto, la porta chiusa e tutto… E poi ha visto quando il coppio è precipitato? No, onestamente no. Lei non… No, 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 perché… Uscì perché era una cosa… mi avrebbe dato anche fastidio, quindi penso… No, 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 poi credo… Lei non aveva una responsabilità diretta su questo, quindi… No, nessun titolo… No, perché c'era la ditta che era intervenuta e gli aveva dato… Quindi a quel punto avevo esaurito il mio, diciamo, intervento. Onore del migliorino? Sì, grazie Presidente, grazie ovviamente della sua presenza qui, grazie. A voi, grazie. Chiaro, io mi permetto ovviamente con il piccolo sforzo di memoria ovviamente quando… Di riprendere alcune fasi del suo, diciamo, intervento, della sua presenza. Lei sa che abbiamo ascoltato anche il dottore Emanuele, il signor Emanuele Dragoni? Sì, eravamo colleghi… Ecco, era un suo collega, ecco, quella sera era lì con lei? Certo. Eravate in due? Sì, sì, sì. Ok. E quello che ci è stato detto è pubblico, voglio dire, ovviamente, se poi abbiamo una parte segretata la faremo dopo e se lei vuole dirci qualcosa di segretato ne ha tutto il diritto. Credo. E ci ha detto che facevate alcuni percorsi, mi dice un attimino il percorso, o cosa facevate al termine, diciamo, del vostro turno, del vostro lavoro? Il vostro turno era un orario un po'… era alle 8 e 7 minuti, per capirsi. Finiva alle 8 e 7 minuti? Noi uscivamo qualche minuto prima perché dovevamo fare un giro per controllare degli impianti, per spengere le caldaie e per chiudere eventualmente, se c'era qualche… si davano chiase, c'era una finestra aperta, a volte rimaneva una porta, è successo, ecco, non è che era abbastanza… Una porta che dava con l'esterno o interno? Sì, c'è, quindi una finestra… Dovevamo fare un giro di controllo, ecco, diciamo. E uno girava la piazza Labbadia e io da… quella sera passai da Via Montanini e ci siamo trovati poi, le caldaie sono in un vicolo che fa capo all'albergo Canondoro, ok, sì. E praticamente da dentro poi ci siamo rincontrati, poi si consegnava le chiavi al portiere. Ecco, te sta dicendo molte cose che per noi sono interessanti. Prima, vediamo su questa frase che ho detto, consegnavamo le chiavi al portiere. Eh sì, noi non potevamo sentire le opie. No, però lei aveva le chiavi quella sera per fare il giro. Eh, per chiuderemo. Ok, diciamo che quella sera lei tocca via Montanini. E al dottor Dragoni che cosa tocca invece che… Il percorso era via della Labbadia perché avevamo degli impianti… Ma da dove uscivate? Io dalla portieria però, a volte uscivamo anche dalla portieria di Montepio. Bene, cioè il percorso che facevate, che lei toccava… Non lo so se una sera sia o una sera no, non so come lo organizzavate. Però a lei è toccato di andare verso Montanini, quindi l'uscita che fa qual è? Eh, portieria centrale… Quindi da Salimbeni. Piazza Salimbeni… Eh, gira a destra via Montanini. Certo. E va a toccato un d'oro che sta là. Certo. Mentre, dottor Dragoni, da dove è uscito quella sera? Eh, ora che ricordazzo… Ma lei dove usciva quando faceva l'altro giro? Eh, a volte si usciva anche dalla portieria. Da Montepio? Sì. Eh, la portieria, diciamo a tutti… Ci portieria, quando stai usciti, viudevano… Ecco, diciamo che era la portieria, la seconda, non quella principale, ma quella che sta in vicolo di Montepio. Giusto? Certo. Giusto per farlo rimanere agli atti per essere agli atti. Sì, sì, sì. Quella sera, quindi, dottor Dragoni, ci ha detto lui, è uscito da quella porta. Certo. Lei, ma ho appena detto che ha visto un minuto, cioè un video di 30 minuti prima, eccetera. Quindi c'è passato pure… cioè, lei l'ha visto quando vedeva il video prima che cadesse il dottor Rossi passare Emanuele Dragoni? Oppure è passato talmente sotto il tempo che cadeva, diciamo, il dottor Davide Rossi che non ha visto passare Dragoni? Probabilmente era qualche minuto prima, cioè è uscito qualche minuto prima del video. Ecco, quindi direi che in quella parte di 30 minuti lo vede camminare Dragoni? No, no, perché se no ci avrebbe fatto caso. Ecco. Ok, quindi non l'ha visto perché ci avrebbe fatto caso. Ora, io vorrei capire questo, le chiavi, abbiamo detto, se uno usciva dal Montepio, e sappiamo che, almeno un po' me lo dice lei, ma sappiamo che la portineria chiudeva alle 18.40, quindi voi avevate le chiavi dell'uscita di Montepio. Noi portavamo le chiavi in portineria. Eh, quindi facevate questo giro e poi alla fine portavate le chiavi in portineria. No, io quando c'è chi saliva alla portineria centrale, a quel punto aveva chiuso tutto e portava le chiavi in portineria. Eh, quindi, va… No, alla fine del giro. Se le chiavi chi ve le dava? Il portiere che stava a Montepio? No, le chiavi sì c'era, il portiere a Montepio, le chiavi però noi avevamo le chiavi, uscivamo, avevamo le chiavi, uscivamo, poi chiudevamo la porta, chiudevamo la porta. Quindi, ma chi ve le dava però le chiavi? Eh, il portiere lì. Ma il portiere di Montepio o di quella centrale? Facciamo questa differenza per favore quando ne parliamo. Con tutto il tempo che vuole, sia chiaro, però… Sì, 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 no. Che se mi dice la portineria, sono tre… Sostamente sono di fiotà perché chiaramente si prendeva a Montepio e il portiere era quello di Montepio, però chiaramente le responsabilità poi in primis era della portiniera centrale. Cioè, quindi però alla fine, sia chiaro, non è che stavano sempre in mano a portiere, stavano portiere di Montepio, voi e poi portiere. E questo è la… Certo. Ok. Ora, vorrei capire quanti ingressi ci sono in Montepio e dei Paschi che lei sappia, perché da quello che ho capito facevate i controlli degli ingressi, se non lo sapete voi, e poi le finestre di cui parlava, mi dice quanti ingressi, secondo lei, facendo un attimo momento locale, ci sono nel Montepio e dei Paschi? Allora, Montepio e dei Paschi se le tende a sede storica… Eh sì, mi perdono, vedi, piazza di quella… No, li spiego perché, perché gli altri palazzi, per esempio la filiale… Però diciamo che avevano quel contatto per arrivare da Rossi, ecco, io dicevo… Benissimo, allora, Montepio chiaramente, e poi c'era un ingresso che era situato in via Montanini. C'era uno addirittura in via Montanini? Dalla quale la mattina i portieri entravano, toglievano le allarmi e andavano in portineria. Ok. E poi c'era quello centrale? Quello centrale veniva aperto al momento che veniva… Vabbè, però c'era come ingresso. Eh sì, certo. In via e in piazza dell'Abbadia quando ingressi ci sono? In piazza dell'Abbadia è un altro stabile, quindi non ha… Eh, non c'è un sottopassaggio… C'è un sottopassaggio, però è onestamente quello è un po' problematico, passaggio, perché era allarmato… Eh, quello di piazza dell'Abbadia è allarmato. Sì, anche se lei avesse avuto le chiavi, noi le chiavi non le avevamo, perché non avevamo scopo, cioè passavamo da fuori, ma se avevamo… se le avesse avuto anche le chiavi… Ma lasciamo se si è allarmato o meno, c'era un ingresso oppure no? C'era un ingresso. Benissimo. All'ufficio del Dottor Rossi? No. Eh, noi ci siamo stati, ci siamo arrivati. Lei praticamente è via l'Abbadia, saliva su. Via dell'Abbadia? Invece di prendere il sottopassaggio? Sì, sì, sì. No, mi dispiace, ma non me lo ricordo. Ah, ok. Cioè, io ho capito quale… quel portone grande dove si parcheggiano i motorini. Portone dove li firavano in ferro, sì. Eh, dove si parcheggiano i motorini, dove lei ha parcheggiato i motorini, c'è un portone grande. E noi ci siamo arrivati dalla banca… Ah, ma quel portone, lei sta dicendo, quel portone in legno? Bravo, quello grande, grande. Ah, sì, sì, ma quello è sempre chiuso, eh. Sempre chiuso. Quello era un ingresso, veniva usato esclusivamente quando c'erano le ditte, ci si troveva virilli e le ditte devono scaricare del materiale. Quindi c'erano delle ditte che scaricare il materiale. Sì, sì, ma ora io abbia fatto senza, aveva un fuso perché più giù c'è un'altra porta… C'è un'altra porta, è vero, bravo. Però quella non ha accesso a… Ok, no, no, io dicevo quella prima sulla sinistra appena gira il vigolo via dell'Abbadia. Però… Non… Quindi c'erano le ditte generalmente quando ci lavoravano? No, era cario o scario praticamente. Ok, c'erano tipo… mi faccia capire se in quella parte via dell'Abbadia, in questo portone grande, se c'erano tipo, che non so, materiali d'ufficio, mobili, scaffali… C'erano qualche mobili, qualche scaffale e qualcosa, per esempio, c'erano qualche ditta di… che so, di muratura o che… Qualche ditta di muratura. Io a quel tempo abitavo al Via del Comune, lei sa dove abitava il Comune, no? Certo. E' proprio là sotto, poi qui parcheggiavo il motorino là. Certo. Io le ricordo che c'erano delle ditte, lei pure si ricorda che c'erano delle ditte. Perché di muratura? Cioè vuol dire che cosa facevano le ditte di muratura in Monte dei Paschi? Un ambiente grande a quel modo aveva sempre bisogno di una convenzione ordinaria o straordinaria. Certo. Ma voglio dire, anche di pittura o di muratura in che senso? Sì, anche di pittura, poteva succedere che ci fosse anche la ditta di Imbianchini. Ora, adesso ho passato tanto tempo, lei non si ricorda se in quel periodo c'erano oppure no? Allora, non mi sembra che ci fossero le ditte di muratura… E di chi era il furgoncino che stava all'ingresso del vicolo? Quel furgoncino mi sembra che era stato autorizzato a parcheggiare lì, ti spiego perché… Uno normalmente lavorava per noi intendo, per la banca, e parcheggiava lì quando veniva al lavoro. Ora aveva un piccolo lavoro da fare, credo sia stato da un privato credo, però non sono sicuro. E mi ricordo, ci chiede, se lo posso parcheggiare qualche ora e poi lo tolgo? Chiaramente… Era l'imbiaggino tipo… Era l'imbiaggino. Ah ok, l'imbiaggino. Ora si chiamava… Di nome Andrea, però di cognome non… Benissimo, benissimo. No, è interessante quello che sto dicendo, noi ovviamente abbiamo delle conferme, mi permetto di chiederlo però… Sì, Dio. E allora, quindi quella sera lei fa questo giro, si incontra col signore Dragoni all'ingresso, vi salutate e finisce là o l'ha detto qualcosa di particolare? Quando avete finito di fare questo giro? Beh, lo ricordo, ma credo sia stata una serata fino a quel punto normale nel senso… Però non erano le 8.07, voi uscite prima, cioè le 8.07 poi poi finisce, voi a che riuscite? Le 8.07 si consegnava… Ah, si consegnava le piazza… Quindi si è riuscite prima… Prima… Io avevo il motorino… Dio, no… Non piazza Abadiella… Nella discesa… Ho capito… Quella di Valerozzi… Valerozzi, bravo… Ok… Perché con la scusa che ero lì in piazza… E bravo, uno vuole scendere… Giustamente… E la volevo lasciare al motorino lì… E mi ricordo che io uscì e ho preso il motorino ad andare a casa… Però capisce… Lei… Noi vediamo che il dottor David Rossi cade alle 19.43… Quindi voi siete usciti… Una mezz'oretta prima a fare questo giro allora… Eh, ma ci voleva una ventina di minuti… Ah, ci voleva… Ok, quindi era normale… Allora… Si può fare anche in meno tempo… No, no, no… Io volevo capirlo… Non siete usciti alle 8.07… Ma prima di questo… Cioè… Si rischia magari di fare una cosa un po'... Se si fa troppo… Ok… E quando lei è arrivato in portineria… Sì… C'era… Vediamo un po' se riconosce innanzitutto… Lei conosce il dottor Filippone… Il dottor Filippone sì… E c'era alle 8.10… 8.07… Quando siete arrivati… Il portiere che cosa l'ha detto? Non ricordo… Non ricordo… Il portiere ha le solite frasi di circostanza… Non è che era preoccupato di qualcosa… Vi ha chiesto… Avete visto… Vi garantisco che questa sensazione non l'ho proprio… Non l'ha avuto… Non l'ha avuto… No, no… Addirittura ripeto… Il portiere quando mi ha chiamato… Non è che ha detto… Guarda… Ha successo questo, questo e questo… Ha detto… Ha successo una cosa… Bisogna che venga immediatamente… Perché c'è bisogno di te… Quando siete arrivati là… Non c'erano macchine della polizia… Qualcosa… Non dopo… Alla secondo chiamo… Alla reperibilità… Ma all'inizio… Lei sta parlando a mia pazienza… Sì… Quando alle 8.07… Più o meno… No, no… È normale… È una serata come tutte le altre, voglio dire… Sì… Ok… Che ti dico… Io passando dalla parte di qua… Perché a me se fosse stato d'armare la polizia… Non l'avremmo… In via dell'Abbadia… Quel portone è allarmato oppure no… Se lo ricorda… In via… Questo qua grande… Che facevano… Manutenzione… Muratura… Mi sembra di no… Ok… Lei non si ricorda se c'erano… Molte volte… Delle… Marche di vernice a terra… E qualcuno camminando… Si sporcava le scarpe… Mai successo… Mai… Aspetta… C'era anche della mochetta in terra… Perché c'era una vecchia figlia… E… Ci avrei fatto caso… Però chiaramente… Lei sai se a quarto piano c'erano dei lavori… In quel periodo… A quarto piano… Mi sembra… Si c'era… Ma lavori che vuole c'era quasi… Tutti i giorni… Però diciamo… Lavori di una stanza… Non proprio lavori tutto un piano… Voglio dire… No… Cioè i lavori c'erano quasi tutti i giorni… C'era… La ditta di elettricisti… E praticamente avevano… Fra piccoletto un ufficio… Un piccolo magazzino all'interno… Perché tutti i giorni praticamente… O il cavo… O altre cose… Dovano essere… Non c'è pure un ingresso sotto l'arco dei rossi… Fino al vostro ufficio… Eh… L'ingresso della cosa… Della? Eh… L'ingresso dove c'era la borsa… Titoli e borse… Io non la capisco un po' meno bene… Si… Titoli e borse… A me fa senso… Sono un po'… C'era l'ingresso? Eh… C'era la borsa… Cioè si entrava a ponte dei pacchi… Anche da là? Si… Ok… Si… Si entrava nella filiale… E c'era pure qualche porta di vetro che comunicava con la banca… Che sta sul via banca di sopra… Cioè quanti ingressi siamo arrivati… Parliamoci chiaro… Sette, otto… Gli ingressi ci sono… Però non tutti fanno capo alla sede storica… No… Però che si può arrivare all'ufficio dei russi… Che si può arrivare nella parte che poi prende un ascensore e sali… Eh… Da lì si… Si… Perché succede… Però c'è una porta sempre… Mi ricordo che era in vetro… Chiusa e allarmata… E le finestre che stavano a piano terra… Sono quelle sempre di piazza dell'Abbadia… Le porte a vetro e a finestre… Le finestre… Lei sta dicendo… Sulla destra… Andando verso… Scendendo… Cioè dalla… Gerando a sinistra da via dei Rossi su via dell'Abbadia e quindi piazza… Sulla sinistra… Tutta sede del Monte dei Paschi… Certo… Ci sono delle porte a vetro, porte a finestre… Che stanno a piano terreno… C'è una porta… Cioè lei controllava pure quelle… Non succedeva che se… Cioè chi usciva… Non so se era il direttore… Chiudeva… Eh… Che anche lui credeva… Quella sera non avete trovato che c'era una porta a finestre aperta… Cioè nel senso… Non ci avete fatto… No… È successo qualche volta… Le finestre della filiale… Sì… Della filiale… Che per motivi non so… Erano rimasti aperte… È successo… Va bene… Eravamo intervenuti… O ci chiamavano uscendo… Si vedevano… Allora… Fra l'altro… Dovevamo chiamare il funzionario reperibile… Perché noi le chiavi della filiale… Non ce le fate… Ho capito… No… E… Mi ha detto… Siamo quasi arrivati pure al termine del Presidente giustamente… E… E… Lei arriva… E viene chiamato della reperibilità… Però mi ha detto… Sono appena arrivato a casa… No… Era un po' stavo… Eh… No… 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 Mi faccio concludere… Di quando è stato chiamato… Perché che ne so… Magari aveva acceso una trasmissione televisiva… Perché non lo so… C'era una routine… Che più o meno le indica… Guarda… Mi ricordo che avevo finito di fare cena… Quindi diciamo… Arrivavo a casa verso le otto e mezza… All'otto e venticinque… Sono andato intorno alle 9… 10 alle 9… Le 9… Credo… Ok… Quindi diciamo… Non fu chiamato molto dopo che era tornato a casa… No… 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 Mi ha detto di chiamarla… Questo bisognava domandare al portiere… Eh no… Perché… Cioè… Sì… Avevo accesso la televisione sicuramente… Si parlava con mia moglie… Però… Ora onestamente… Io… L'orario esatto… Non lo ricordo… Ok… L'orario esatto… No… Non l'ho intendo… Vabbè… Questo dico… Che io per… Partire da casa… Arrivare in Venerossi… Ci metterò… Dio 10 minuti… Ma forse meno… Con lo scude… 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 E quindi… Ha fatto via del comune o via… Che ne so… Via di Mezzo… Qual l'ha fatto per salire? Però via il comune… Ah quindi… No… Come si chiama? Sì… Via di Mezzo e poi arrivata via dei Rossi… Con motorino da Ravacciano… E sono arrivato lì… C'erano già le forze dell'ordine… E stavano… Mi ricordo… Io non l'ho visto… Ripeto… Davide Rossi… Però… L'avevano appena caricato… Lo stavano caricando… Quando sono arrivato io… Quindi… Come lo stavano caricando? Sì… Sull'ambulanza… Mi sembra… No aspetta… Lei… Perdoni… Serto… L'hanno caricata all'undici e mezzo di sera… Ma qua… Non è più mezz'ora o un'ora… Non lo so… No no… Però dico… Lei quando arriva… Mi perdoni… C'era… Anche l'autombulanza… C'era proprio fisica… Sì… Questo sono sicuro… Quindi arriva… Io non sono entrato nel vicolo… Perché… No no… Certo… Lei è arrivato… Dico… Via dei Rossi… E c'era l'autoambulanza… Sì… Ok… Poi è andato dritto… Allora c'è il motorino… Ho parlato con… Con un ricordo… Se era un calabiniano poliziotto… E ha detto chi era… Che mi ha chiesto… Lei dove va… Certo… Sto andando… Sono reperibile… No no… Tranquillo… Lei è passato sotto l'arco dei Rossi o che è stata… L'arco dei Rossi… C'era molta gente o c'era abbastanza? Come la vedete? Allora in via dei Rossi c'era un po' di gente… Non tantissimo… Un po' di gente c'era… Ok… C'era qualche cosa che delimitava… C'erano delle macchine della polizia in via dei Rossi… Però ora non ricordo se c'era delle fettucce o qualcosa del genere… Ok… Non mi dispiace… Quindi quando arriva là… Lei si ricorda se il PM c'erano già oppure no? A me mi sembra… A me mi sembra quando arriva… Io aspettavo un po' prima di arrivare se il PM… Ecco… Cioè nel senso… Se il PM è arrivato dopo direi… Ma mi hai chiamato a lei… Io ho parlato con una persona… Si… Era accompagnata dalle forze dell'ordine… Che però io non so se era il PM o meno… Si… Se era un fucile della polizia… Ok… Non so… Che… Disse… Ma voi avete… Sì… Abbiamo le chiavi per aprire… L'armadietto… La porta… C'era la porta prima dell'armadietto… E dopo di che però bisogna fare intervenire la ditta… Che… La ditta era già stata chiamata credo… Infatti arrivò pochi minuti dopo a me… Quindi noi siamo scesi giù… Io sono andato… In un ufficio… L'ufficio mio è… 30 metri dalla porta… Si… Ho preso le chiavi… Perché… Pure noi sappiamo a che ora è arrivata la ditta… No… Ma noi stiamo parlando… Di tardi… Tardi… Cioè… Non mi sembrava tardissimo… Eh… Cioè… Voglio dire… Stiamo parlando di mezzanotte… O stiamo parlando delle nove e mezzo… Cioè… Io ho capito che sono passati otto anni… Però… Stiamo parlando di tre ore dopo… O di mezz'ora dopo… Questo… Questo… L'orario esatto… Sono d'accordo… Sono d'accordo… L'orario esatto è passato un po' di tempo… Perché… Probabilmente… Essendo lì… Poi… Il fatto di aver assistito una cosa del genere… Che… Può darsi… Ho capito… Non è che mi metteva… Allora mettiamo così… Lei arriva lì… Attende… E con chi va ad aprire questo armadietto… Questa stanza e poi l'armadietto… Dunque… Nella mia stanza ci sono andato da solo… Erano scesi giù questo… Il funzionario di polizia… Credo… Per dire un nome… Ma il funzionario è uomo o donna… Non ho capito… Allora c'era un signore… E poi mi sembra c'era anche una poliziotta… Cioè c'era un poliziotto… Proprio indivisa… Una signora… No… Aspetta… Allora… Va beh… C'era una donna e un uomo… Sicuramente… Si… Quello a quale io facevo riferimento era un uomo… Si… Un uomo era indivisa o no? No… Allora… Quello che diciamo faceva riferimento a lei… Non era un uomo indivisa… No… La donna… La donna era indivisa… Mi ricordo ci faceva caso e parlava… Mi sembrava… Toscano… Ok… E' la stessa donna che hanno dato la chiavetta… Questo non lo so perché la chiavetta non glielo consegnerebbe… No… No… Però quando ha detto… Dato la chiavetta alla polizia… Io penso abbia dato… All'uomo… Questo signore… Che era in borghese… Va bene… Ok… Quello che… Gerarchicamente parlando aveva… Aveva… Cioè mi sembrava la persona… Che capisci… Che comandava… Che dava degli ordini… Quindi quello che comandava… E che è andato là… Era in borghese… Ed era un uomo… Certo… Ok… Quindi scendete giù… Perché sta giù… Immagino… Perfetto… C'era una bacheca… C'aveva una bacheca in metallo… In cui mettevamo le chiavi… Sì… Lasciava anche lì le chiavi… Tipo della portineria… Quando gli veniva data da quell'altro… No… No… Quando gli veniva data le 18.40 dall'altro portiere… No… No… Eravamo responsabili di questa… Quindi la tenevate con voi… Ok… Quindi che fa… Torna indietro e poi… Apre la porta… Apre la porta… Ok… Ma c'era già Secciani oppure no? Secciani mi sembra… Era già arrivato… Mi sembra di sì… Quindi… C'era lì… O… Quasi immediatamente… Ok… Che mi ricordo di aprire l'armadietto… Poi chiaramente… Io purtroppo… Non potevo… Certo… Non avevo mezzi per potere… L'uco compiusi… Ha scaricato il filmato… Ecco… Mi dici un attimo questa operazione… Com'è… È stata lunga… È stata corta… Cosa è successo? Cortissima… No… 20 minuti buoni… Sono convinto… C'è voluto… Ora io non ricordo esattamente… Quindi lei stava dietro… Lui vedeva che andava un po' prima… Hanno cominciato a aprire da prima… Quindi è rimasto un po' di tempo… Perché… Si vedeva che l'immagine era… Diciamo… Ancora… Non era caduto nessuno… Ah no… Allora… Dentro… Dentro del coso… C'era un monitor… Si… Ah… C'era un monitor… Si… Alla quale… Io non mi ricordo… Se ci fu attaccato… Il computer direttamente… O se avevano già una chiavetta… Non ricordo… Onestamente… Non ricordo… E al quale facevano… Guardavano… Con la quale… Probabilmente avranno guardato… Queste immagini… Io ho visto le prime… Le prime immagini… Dopodiché… Mi ricordo che parlavano appunto… Dell'orario… Che… Eh… Ancora non era successo… Secondo loro… Perché era… Faccia conto… Ma le dica… Non dica… Faccia conto… L'orario partisse dalle sette e mezzo… Sette e quaranta… Non lo so… Si… Capito… Quindi succede… Probabilmente… Ci sta che… Loro sapessero… Doveva succedere… Dopo… Qualche minuto di video… Cioè… Quali sono state le frasi… Più o meno… Cioè… Ancora non era successo… Non l'ho capito… No… Loro guardavano… Perché vogliono arrivare al punto… Però… Ecco… Non sapendo esattamente… L'orario… Certo… E questo filmato… Partendo da un orario… Probabilmente era… Prima… Di un po' precedente a quello che era successo… Chiaramente… Fu… Fu… Fu una cosa… Lunga… Insomma… Diversi minuti… Diversi minuti… Diversi minuti… Io dopo un po'… Erano dentro… Mi allontanai… Quindi non è che sono tornato indietro… Sono iniziati da un punto prima che cadesse… Certo… Per due o tre minuti ancora… Non avevano visto dove era caduto… Io sono uscito… E poi è uscito… Quindi… Mi doveva essere anche di troppo… Ho capito… E… Dovevo essere a disposizione… Se ce l'ha bisogno… Cioè… Lei a mezzanotte è andato via… Sì… Certo… A mezzanotte è andato via… E le chiave a chi le ha lasciate… Eh… Chi? Le chiave… A chi le ha lasciate… Gli ha mai detto… Eh… Quello lì l'ho rimessa… Suo posto… Lei è andato via a mezzanotte… Perché se lo ricordo… Perché quando è tornata a casa… Vi discusi… No… Ora esattamente… Non sono sicuro… Forse era a mezzanotte… Forse era qualche minuto dopo… Mi ricordo… E tornai… No… No… Non era l'una… L'una e mezzo tipo… L'una e trentasette… Le dico proprio un orario preciso… No… Non mi sembra di no… No… Mi sembra era un po' prima… E lei è sicuro… Cioè… Può affermare che nessuno abbia ripreso le chiavi da quell'ufficio… E si è ritornato… Io ho chiuso… L'ufficio mi era chiuso… Eh… Onestamente poi… Beh… Esiste un pass per tu in quella banca… Oppure no… Chi sappia io no… Forse ci sarà stata una chiave… Una copia in portineria… Forse… Eh… Presidente… Poi poi facciamo una mezza domanda… Diciamo insegretata… Da questo punto di vista… Eh… Forse c'ho altre due piccole cose… Poi… Eh… Eh… C'era qualche funzionario del Monte dei Paschi… Oltre al poliziotto che lei dice che era in borghese… Cioè… No… Poliziotto… Ma io onestamente non ricordo… Mi sembra di no… Quindi non c'era qualcuno del Monte dei Paschi… Io non… Cioè… C'era… Lei che stava dietro… Sì… Il funzionario… Seciani che prendeva là… Uno in borghese… Che lei ha detto poliziotto… Ma chissà… Diciamo uno in borghese… Che comandava… Non lo so perché non… Ok… Non c'era nessuno in divisa… C'era… Mi sembra una signora in divisa… Una signora che forse è in divisa… E poi… Mi sembra… Non ricordo… Mi sembra… Lei iude e se ne va via… Verso mezzanotte… Ma allora avevano già acquisito il filmato… Avevano già visto tutto… Avevano già visto tutto… Ripeto… Non so se è stata fatta una… Due cose… Non lo so perché… Sentivo e gli disse… Bisogna fare una copia da mettere in una pennina… Mi sembra… Bisogna fare una copia da mettere in una pennina… Sembra… Sì… Cioè la pennina non l'avevano attaccata in quel coso… Eh… Ho capito che se c'è una… Bisogna fare una copia… Ah… In questo senso… Ho capito… Ah… Bisogna fare la copia… Ma probabilmente ci sta che loro hanno scaricato il filmato nel computer… Ora… Io non ricordo… Perché avevano un computer… Sì… Per scaricare il filmato dovevano attaccare il computer alla macchina… No… Non ho capito… Ha attaccato il computer alla macchina… Sì… Scaricano il film… No… Aspetta… La pennina è stata messa direttamente nel dispositivo… O nel computer di qualcuno… No… Allora… La pennina io non l'ho vista… Ok… Non ho la certezza che ci sia stata una pennina in quel momento… Ok… Mi sembra… Ripeto… Mi sembra… Perché non ho la certezza… Che il signor Cerciani… Che era quello della ditta Cosit… Eh… Che avesse scaricato questo filmato con un computer… Con un computer… Con un computer… Con un computer… Per… Lei ci vorrà… Lei ci farà… La metto… È come se l'avessero scaricato sul computer… E poi fatto la copia delle pennine… Questo mi sta dicendo… Sì… Credo sia andata… Ho capito… E sul dispositivo… Sono l'1 e 21… Cioè… Nel senso… C'è uno slittamento di 16 minuti avanti… Cioè… Nel senso… Loro hanno un video che inizia alle 19 e 59… In verità… Il Dottor Rossi… 16 minuti avanti… Cade alle 19 e 43… Ok… Sì… Però quello che voglio dire è che noi siamo… Sappiamo che siamo all'1 e mezzo… Che si dovrebbe pure più tardi… Perché no… Loro chiudono la porta… Quindi lei mi sta dicendo però che sono andata a mezzanotte… C'è… Un'ora e mezzo di… Cioè… Di differenza… A me si sembra usci prima e chiudessero… Ecco… Eh… ok… Ma sono l'1 e mezzo a loro… Non è più sotto mezzanotte… Dica quello che si ricorda… Eh… No… Mi sembra tornare a casa… Un orario che non era… Che non era così grande… Un po' da… C'è sta anche l'1 e mezzo… Ora non ho… Però non mi sembrava… No ma sia chiaro… Io voglio essere chiaro… Giusto presidente… Grazie… Io non la sto accusando di niente… No… Io cerco di capire… Nel senso che ci possono essere delle discrasie temporali… Eh… Però quello che voglio capire è che… Eh… Per capirsi… Ho delle difficoltà a questo momento a ricordarmi proprio a questo discorso dell'orario… Mi ricordo alcune cose… Ma gli orari esatti… No… 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 Cioè se lei mi dice sono arrivato un po' dopo… Ho visto l'automulanza… Non c'era più o mezzanotte avviene l'automulanza… Cioè nel senso… Sono orari che non so più mezz'ora o un'ora dopo… Cioè lei addirittura può sbagliare di tre ore… Sì… No… No… Capisco che lei vuole dire… Eh capito… Non la sto accusando di nulla… Anzi sia chiaro… Magari lei non lo sa che qualcuno è andata a riaprire la porta… Faccio un esempio… No… Tutte le porte si possono aprire però ecco quello di… Un segno di scasso… No… No… Nel senso con le chiavi ovviamente… Con le chiavi… Eh ma le chiavi avevamo noi… Noi le chiavi avevamo… Noi l'unica chiave che tenevamo era la chiave nel nostro ufficio… Ok… E poi gli altri stavano in ufficio… Perché la mattina quando si arrivava arriva l'ufficio… Certo… Però noi abbiamo pure quando va via l'ambulanza… E quindi noi facciamo delle considerazioni su quello che dice… Va bene… Quindi è interessante ciò che sta dicendo… Lei se mi dice che quando vivo via… Io l'ambulanza… Cioè le calcoli quando sono andato via io… Mi sembra… Nel vivo non c'era più nulla… Certo… Perché effettivamente… Appunto… Cioè in assenza… Sì sì… Poi ha visto buio a quel modo… Poi… Sì mi ricordo che non c'era nulla… Lo sa perché… Perché… Metteva proprio anzi a passare proprio di lì davanti… Esatto… Stanza buio… Vanno via prestino… E quello era successo… C'è solo una cosa… Ma… Siccome il suo collega Emanuele Dragoni… Aveva il motorino parcheggiato… Lo scooter parcheggiato là dentro… Avevate le chiavi della catenella voi… La catenella a volte la lasciavamo… Il lucchetto… Inserito… Ma non chiuso… Proprio perché… E chi la faceva questa stagiusura… Voi oppure il portiere quando usciva… No… Questo si facevano qui… Sì perché… Avendo a volte il motorino là dentro… Che succedeva… Lui andava… Mi ricordo allora… Andava a fare della ginnastia… Qualcosa del genere… Ora non ricordo dove… E quando… Prendeva il motorino… Chiudeva e se ne andava… Ho capito… Va bene… E c'è una piccola domanda… Diciamo in segretato… Io la ringrazio… E c'è una piccola domanda… Allora, con la prima… Anche… Ma non ricordo… E c'è… Sì… Tornata… E c'è… E c'è… La tutta… È una piccola… Elicere… Un po' Inizial… Un po', Car… Un po' Un po' No… Un po' Un po' Un po' Un po' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.